Procediamo all'appello, consigli e seconda convocazione. Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cercuoni, Ciancio, Cofano, Coglia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Telitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. 9, 10, 11, 12, 13, 14, si ci siamo, 14, 15 con la Presidente, 14. Abbiamo 14 consiglieri presenti, più la Presidente, 15. Possiamo aprire la seduta del Consiglio come seconda convocazione. Nomino quali scutatori? I consiglieri Cofano, Caccamo e Carlone. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi dall'aula se non previa comunicazione al tavolo della Presidenza. Ricordo che in seconda convocazione abbiamo l'atto sul regolamento di impianti sportivi. Su quest'atto è stata già fatta la discussione, è stata già fatta la dichiarazione di voto. Quindi quest'atto va soltanto in votazione. Allora, metto in votazione, primo punto, proposta di deliberazione per espressione e parere sulla proposta approvazione del nuovo regolamento per impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessun contrario? Chi si astiene? Sì, lo sa, mi ha detto che avrei fatto la pelle e poi sarebbe venuto via dita questa pelle. Io sono passata, mi ha detto che non c'era. 10 voti a favore, 2 astenuti, 2 non partecipano al voto e quindi l'atto è approvato. E procediamo all'appello per la prima convocazione. Prego. Fantino, presente. Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cercuoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Madronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Sì, allora mettiamo presente, ok. Quindi siamo. Abbiamo 15 consiglieri presenti, quindi possiamo aprire la seduta e consigli in prima convocazione. Primo punto dell'ordine dei lavori, ci sono le comunicazioni del Presidente del Municipio. Prego, la Presidente. Sì, buongiorno. In realtà, diciamo, fondamentalmente era per presentare il Direttore con la nuova organizzazione dei municipi, non solo ovviamente di questo, perché voi sapete che ora i municipi sono organizzati con il Direttore, come sempre, e due dirigenti tecnici, il dirigente UA e il dirigente Uosex, con una qualifica diversa che è quella di Direttore, dunque in qualche modo un riconoscimento ai ruoli. I municipi accorpati come il nostro, o meglio dire, ci sono tre municipi, anzi, che sono stati, tra virgolette, beneficiati per varie ragioni, il nostro sicuramente per la quantità di popolazione e abbiamo diritto a un dirigente in più, che non avrà la stessa qualifica di direttore, però sarà il dirigente della UA, che come voi sapete ancora è vacante nel nostro municipio. Parallelamente a questo, diciamo, quando ci sarà l'apertura del bando sulle posizioni organizzative, è stata mia cura, ma mi auguro che venga recepito dall'amministrazione, tenere in considerazione il fatto che noi comunque rimaniamo un municipio con una densità, insomma, di popolazione, dunque di complessità di gestione piuttosto importante e io ritengo che per poter effettivamente, diciamo, portare avanti le competenze proprie di un municipio come questo, abbiamo bisogno che ci sia una riconsiderazione sulla quantità di posizioni organizzative per poterle attribuire ai diversi servizi, alle diverse competenze. Parallelamente a questo, voi sapete tutti che l'assessore Loris Antonelli, che era il sessore alla scuola, per ragioni personali che non è riuscito a conciliare, ha dato le dimissioni dall'incarico di assessore. Allora io, diciamo, sto, ho già individuato la persona che lo sostituirà e però mi riservo ancora per richiesta del Partito Democratico di aspettare ancora un po' di tempo per la nomina in modo tale che, insomma, che riusciremo a chiarire e a definire alcune questioni che sicuramente saranno e andranno incontro, diciamo, una maggiore e migliore gestione del municipio. Io adesso, non so, abbiamo fatto chiamare il direttore perché stava aspettando l'appello e dunque quando arriverà il direttore, insomma, lo presenteremo. Grazie. Grazie Presidente. Ricordo che sulle comunicazioni del Presidente non c'è dibattito. Allora, punto numero due... Eh? Beh, non sapeva, ho avvisato la segreteria. Allora, prima di procedere al punto numero due, proposta di deliberazione di iniziative della Commissione legalità e sicurezza, sospendo cinque minuti del Consiglio e riunisco i capigruppo col Presidente della Commissione. Consiglio è sospeso, cinque minuti. Riprendiamo il Consiglio. Allora, per quanto riguarda il punto numero due, diciamo, l'orientamento dei capigruppo è quello di, diciamo, non portare in discussione oggi quest'atto che, ricordo, Commissione Mobilità è stato votato all'unanimità di tutti i presenti in Commissione, quindi l'orientamento del merito, diciamo, è condiviso su quest'atto e non viene portato in discussione perché, diciamo, anche per rispetto del nuovo direttore che si è insediato ieri, che tra poco magari darò anche la parola per un benvenuto, e quindi per rispetto anche del direttore, dal tempo al direttore di conoscere, di approfondire l'argomento, quindi portare l'atto in Consiglio il prima possibile. Bene? Il prima possibile vuol dire, insomma, forse se ci riusciamo, il primo Consiglio utile. Allora, quindi prima di passare adesso, quindi l'atto viene ritirato. Allora, prima di passare alla proposta numero 3, sospetto di nuovo il Consiglio e do la parola al direttore che vuole presentarsi e dare il suo saluto. Prego, direttore. Non so se abbiamo già avuto modo in passato di conoscerci, mi chiamo Stefano Carlizza, non amo i discorsi e le presentazioni, mi limito ad augurare a tutti voi, a me, che ne avrò molto bisogno, buon lavoro. e quindi adesso, insomma, ci apporremo già nei prossimi giorni a questo atto di indirizzo in cui mi pare che abbiamo cominciato a individuare un percorso che naturalmente va definito però nei suoi aspetti nei suoi aspetti tecnici di dettaglio anche perché, insomma, come hanno, mi sembra evidenziato, anche gli uffici che già in parte l'hanno esaminato, insomma, comunque presenta anche profili di una qualche delicatezza perché comunque, insomma, non è mai facile tornare dal punto di vista amministrativo indietro, ma, insomma, mi sembra che ieri abbiamo cominciato, no? individuare un percorso possibile. Quindi mi metto a disposizione di tutti voi e auguro a voi e a me, come ripeto, buon lavoro e avremo modo poi, ovviamente, da domani di conoscerci, come dire, meglio individualmente, ecco, e personalmente, insomma. Grazie. Grazie a lei, direttore. Naturalmente, nella prossima riunione dei capi gruppo lei sarà invitato per partecipare alla stessa riunione. Allora, riapro il Consiglio e passiamo al punto numero 3. Proposta di deliberazione per espressione e parere sulla proposta numero 61 a firma dei consiglieri Stefano, De Vito, Racci e Froncia. Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Presidente della Commissione presenta l'atto. Prego, Consigliere Poli. Grazie, Presidente. Colleghi consiglieri, buongiorno, direttore. Un piacere di averla tra noi. La proposta di deliberazione che oggi è sottoposta all'esame del Consiglio è stata valutata in più riunioni di commissione. La motivazione è semplice da poter esplicitare perché si tratta di un regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. È un concetto importante che forse meritava anche qualche riunione in più ma voglio dire poi l'esito dei tempi sono quelli che sono. La proposta di regolamento che ci perviene oggi come ha ben detto il Presidente del Consiglio ci perviene per iniziativa dei consiglieri del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Roma Capitale. Prima di porre all'attenzione della Commissione il testo della deliberazione ho avuto modo di effettuare una serie di approfondimenti e ho potuto apprezzare che la finalità e la proposta di adozione del regolamento è stata attuata da uno dei cosiddetti movimenti di pensiero che abbiamo sul web che è l'ABSUS Laboratorio per la Sussidiarietà un movimento di pensiero come dice come dicevo come ad esempio Carti Regola e altri movimenti che conosciamo che ha effettuato una sensibilizzazione presso alcune amministrazioni e enti locali per poter sottoporre all'approvazione dei rispettivi esecutivi quindi le giunte dei comuni questo regolamento che praticamente si rifà interpretandolo e ampliandolo se vogliamo l'ultimo coma dell'articolo 118 della Costituzione che prevede che i poteri pubblici favoriscono le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale traslando questo concetto su questo atto di natura amministrativa il primo comune che ha soddisfatto questa richiesta di questo movimento di pensiero che sul sito, su internet è presente dal 2006 è stato il comune di Bologna quindi la stessa organizzazione associativa rivendica questo buon lavoro fatto con quell'amministrazione comunale per la stesura di questo regolamento a seguire anche altri comuni hanno adottato l'identico regolamento quindi l'hanno ripreso dal sito lo hanno traslato ed approvato nelle proprie amministrazioni e i comuni che lo hanno fatto sono una trentina devo dire che tra questi non figurano le grandi città tra cui Roma, Genova, Milano, Modena, Palermo, Perugia, Pisa, Torino, Treviso e Trieste non sono ancora stati non hanno ancora approvato questo tipo di regolamentazione che dire l'interpretazione che viene data e quindi il senso che si vuole dare con il regolamento che io ritengo sia da tenere in considerazione poi vi spiegherò la commissione come si è posta di fronte a questo problema dicevo l'interpretazione che viene data è riconoscere cittadini attivi non solo come utenti quindi assistiti, amministrati come adesso si fa quindi secondo le categorie del diritto amministrativo tradizionale ma soggetti che collaborano effettivamente con l'amministrazione fino ad arrivare alle decisioni che in genere l'amministrazione adesso assume in maniera autonoma seppur facendo riferimento ai regolamenti sulla partecipazione il punto è proprio questo è un regolamento che amplia oserei dire esaspera quasi filosoficamente il concetto di partecipazione portandolo a un livello di sussidiarietà quindi ciò equivale a dire che le scelte non le fa esclusivamente la politica ma le fa su input dei cittadini è un concetto importante che secondo me deve essere ripreso forse in un altro momento perché questo storicamente forse non è dei più favorevoli e sempre da internet è stato possibile esumere che l'Absus ha anche avuto contatti con la giunta capitolina quindi hanno consegnato formalmente la bozza di regolamento all'ex assessore Barca poi gli avvicendamenti che ci sono stati nella giunta capitolina hanno fatto sì che questo tipo di provvedimento non fosse inserito nell'agenda di Roma Capitale adesso vengo ai lavori che sono stati fatti in commissione la commissione si è praticamente divisa in due filoni di pensiero il primo molto più radicale è che ritiene che il regolamento non debba essere accettato perché viene lo dico molto schiettamente perché credo che sia doveroso e corretto nei confronti dei colleghi perché si ritiene che venga esautorato il ruolo della politica nel senso che se i cittadini decidono in maniera esasperata tutto ciò che deve essere fatto nella città in termini di rigenerazione e quindi decidono sussitariamente ciò che è importante il ruolo della politica viene appannato o comunque offuscato l'altra scuola di pensiero e tra queste mi ci metto anch'io è che probabilmente il regolamento che ben si cala e probabilmente ha una sua efficacia per i piccoli centri dove il rapporto tra amministratori e cittadini è più facile io penso realtà molto piccole ho portato ad esempio quel regolamento che è stato approvato dal comune di Bussolengo dove è più facile per il sindaco per l'aggiunta di quell'amministrazione avere dei contatti diretti e quindi decidere con tutti i cittadini ciò che è meglio per lo sviluppo futuro della propria città in una città grande e ripeto non a caso le grandi città non hanno ancora approvato questo tipo di regolamento in una città grande probabilmente il regolamento così come formulato ripreso asetticamente da un sito e traslato come normativa in un'amministrazione complessa come la nostra è probabile insomma che debba essere rivista e abbia necessità di attenzioni particolari la commissione dopo questo tipo di ragionamento per le motivazioni che vi dicevo quindi i due filoni di pensiero ha poi espresso contrario anche la nostra aggiunta che si è riunita il 3 settembre ha parimenti espresso questo orientamento contrario e con questa voglio dire illustrazione lo poniamo all'attenzione dell'aula con la precisazione che è un argomento che merita di essere affrontato e ampliato e rivisto in una maniera un pochino più particolare quindi con una condivisione maggiore a livello di forze politiche non a caso l'ho detto in premessa le approvazioni che sono intervenute sono delle giunte delle amministrazioni e non dei consigli ai quali è demandata poi l'approvazione del famoso patto di sussidiarietà che è quindi un atto che viene di volta a volta stipulato con associazioni e gruppi di cittadini ma anche singoli cittadini da qui la complessità di poter pervenire voglio dire un regolamento che sia funzionale per la nostra città sulle porzioni di città da rigenerare ripeto un concetto che va rivisto e ampliato in questo momento sia la commissione che l'ha giunta hanno spesso parere contrario e con questo parere lo sottopiniamo alla valutazione del consiglio grazie grazie a lei consigliere Poli allora apriamo la discussione chi vuole intervenire consigliera Lozzi prego allora il presidente della commissione dice che questo qui non è il momento migliore beh su questo forse c'è un po' da fare una volatazione un po' più approfondita perché forse è proprio questo il momento migliore il momento migliore in cui un'amministrazione non ha né fondi né politici degni per poter amministrare una città forse si dovrebbe avvalere dell'aiuto dei cittadini che spesso si rendono disponibili ma non hanno strumenti e mezzi proprio per mettere a disposizione la loro opera per migliorare il nostro territorio come ha detto prima il presidente della commissione questo è un regolamento che viene proposto dall'ABSUS proprio per portare una normativa una regolamentazione sul principio di sussidiarietà presente in Costituzione il principio di sussidiarietà può essere valutato in due forme quello di cui viene trattato in questo regolamento è quello orizzontale cioè dare spazio ai cittadini e laddove gli stessi non riescono ad operare interviene l'istituzione c'è anche il principio di sussidiarietà verticale dove viene demandata l'attuazione dei servizi pubblici all'ente locale di prossimità e nel caso in cui questo non riesca viene poi assorbita dall'ente locale dall'ente dall'istituzione a livello più alto in entrambi i casi oggi non è possibile agire perché se anche volesse l'istituzione di prossimità garantire quei servizi che sono basilari come la manutenzione delle strade la manutenzione dei parchi la cura dei beni archeologici che sono all'interno di un municipio non avremmo i fondi per farlo e se anche chiedessimo all'ente superiore neanche lui li avrebbe questo regolamento si prefiggeva semplicemente di normare un concetto innovativo dove il cittadino attivo che vuole rendersi utile mettendo a disposizione le proprie capacità e a volte anche le proprie risorse economiche per migliorare la qualità di vita nel proprio territorio potesse farlo senza incorrere né in occupazioni né né infrazioni di norme capitato a Giulia Agricola dove un cittadino voleva pulire un rudere presente sulla via perché era sporco poco manutenuto pieno di cartacce ed è stato denunciato per questo se ci fosse stato magari il regolamento questo regolamento in atto sicuramente adattato alle esigenze di questa città probabilmente quel cittadino non sarebbe stato denunciato noi abbiamo tante forme di occupazione abusiva nel nostro territorio da parte magari di centri sociali che svolgono dei servizi ottimi per la cittadinanza ma lo devono fare abusivamente perché non ci sono normative che gli permettono di presentare dei progetti e ad avere magari degli spazi in affidamento per poter svolgere questa attività questo regolamento è quello che si propone di fare di superare queste piccole problematiche che ci sono sul territorio le istituzioni non sono in grado di fornire servizi nonostante le tasse siano a livelli altissimi perché c'è il fiscal compact perché c'è il patto di stabilità perché c'è sta l'Europa perché ci sono tantissime cose fatto sta che oggi uscendo da casa mia per arrivare qua ho visto solamente tantissime reti rosse che delimitavano zone a rischio per i cittadini perché c'erano alberature sporgenti perché c'erano strade devastate perché c'erano buche perché l'amministrazione non è in grado di agire e laddove magari il cittadino si vuole rendere utile noi abbiamo anche la presunzione di dire no è la politica che deve decidere che deve avere l'ultima parola ma la politica oggi non è credibile questo poteva essere allora quando lo Stato il Comune aveva credibilità non c'era corruzione aveva i fondi allora sì tu cittadino paghi le tasse e io ti garantisco in tutti i servizi ad oggi questo non è possibile quindi il cittadino dice io ti do una mano ci mettiamo a pari livello insieme decidiamo come amministrare il territorio ma non si parla della nazione della nostra via di come amministrare la strada sotto casa il parco dove vanno a giocare i nostri figli ci sediamo insieme e progettiamo noi cittadini offriamo magari il nostro aiuto il nostro aiuto che può essere sia economico sia di mano d'opera sia di professionalità tu istituzione controlli intervieni economicamente là dove puoi e cerchiamo di rendere la vita di tutti più più bella ma purtroppo abbiamo avuto pochissimo tempo perché questi regolamenti vengono presentati ad agosto ad agosto gli uffici non ci sono i consiglieri sono in vacanza e quindi noi abbiamo preferito esprimere un parere contrario senza osservarlo che è fondamentale forse in questo caso perché se siamo d'accordo sul concetto che questo regolamento vuole portare avanti credo che delle forze politiche non lo saranno però alcune sicuramente sono d'accordo sul concetto era fondamentale poterlo osservare perché noi come ente di prossimità potevamo dire al nostro comune siamo d'accordo sul concetto le criticità sono queste quindi quando voi stenderete il regolamento definitivo dovrete tenere conto di questi concetti perché è un regolamento non perfetto ma perfettibile e solo con le nostre osservazioni poteva essere reso tale adesso l'amministrazione comunale che non ha una visione del territorio e questo ce ne siamo accorti su tantissimi regolamenti che ha predisposto si ritroverà a fare il nuovo regolamento perché ce l'ha sul tavolo a sua detta da capo senza nessuna indicazione nostra forse un maggiore impegno nel dare le nostre indicazioni per renderlo migliore sarebbe stato utile si dice che la città è grande che è utile per i piccoli territori Bologna ha 390.000 abitanti i nostri municipi di media ne hanno di meno si aggirano tra i 280 e i 350.000 abitanti quindi perfettamente adattabile alla città di Roma dove non è il comune che deve gestire questa situazione ma proprio gli enti territoriali di prossimità che comincerebbero ad avere un loro senso un loro senso che adesso non hanno perché è tutto accentrato perché si parla di decentramento ma non c'è decentramento invece questo regolamento è un modo per poter gestire e amministrare i beni del territorio proprio con l'ente territoriale più vicino 390.000 abitanti i comuni di Bologna ci riesce credo che anche il settimo municipio sarebbe stato in grado con delle norme certe poter gestire una situazione del genere noi come movimento daremo parere favorevole a questo regolamento l'unico dispiacere è proprio che purtroppo nell'ultima commissione io ero malata e quindi non ho potuto apportare il mio contributo ma se avessimo avuto più tempo le nostre osservazioni sarebbero state fondamentali per la stesura del regolamento a livello comunale grazie grazie a lei consigliere Lozzi ci sono altri interventi consigliere Totino dai consigliere Totino grazie presidente presidente fantino assessore sull'argomento ho partecipato ad una parte delle commissioni ed ho subito rilevato molte criticità di questo regolamento proposto in particolare un'atmosfera del regolamento per la quale di fatto il diciamo chi viene eletto a una certa funzione tenderebbe ad essere scalzato e tenderebbe a diventare di fatto un portavoce quindi questo chiaramente rientra nella cultura che ha prodotto il documento quindi pur avendo criticato queste criticità che ritengo anche delle criticità gravi poiché era mia intenzione un'intenzione simile anche a quella proposta dalla consigliera Lozzi era mia intenzione proporre delle osservazioni più che bocciare il documento perché ritengo che in questo momento in particolare in questo momento storico in cui ad esempio di fronte a una raccolta firme referendaria per l'ennesima volta c'è il silenzio assoluto dell'informazione radiotelevisiva a partire da quella pubblica e di tutto il sistema dell'informazione di fronte ad un momento in cui pur chiamati in causa in questo senso e parlo di una campagna referendaria tra l'altro rispetto alla quale personalmente mi sto impegnando non perché ne apprezzi tutti i temi ed invito anche tutti i cittadini sia i presenti sia quelli che vedranno questi filmati invito tutti a firmare perché si tratta della riconquista della sovranità elettorale in questo senso io ritengo che oggi sia il momento storico per applicare fino in fondo il concetto di sussidiarietà anche se ritengo che ci siano in quel documento dei seri errori di prospettiva che tuttavia essendo noi chiamati a dare un parere ed essendo il nostro parere essendo possibile argomentarlo di più o di meno non mi sentirò affatto di bocciare questo documento dovrò riflettere anche a partire dalla discussione anche a partire dalle mie stesse parole perché poi intervenendoci si ascolta e sia si ascolta gli altri sia se stessi sia si continua la riflessione non entro mai o spesso non entro qui dentro avendo già deciso tutto dicevo che la riflessione che andrà avanti fino al voto mi porterà a decidere il tipo di voto ma certamente non mi sentirò di bocciare questo documento che va incontro ad una esigenza estremamente attuale della cittadinanza e che probabilmente come tale è stato calato un po' male sulla realtà romana va spinto fino in fondo questo documento invece su altri aspetti quando parla di beni comuni è un tema importantissimo e ad esempio questo concetto va esteso alla moneta bene comune che non può essere più semplicemente proprietà degli istituti finanziari ovvero non è più possibile consentire che i cittadini per qualunque transazione debbano avere come medium un qualcosa che non è in loro possesso e non è nel loro potere ovvero una moneta che è loro sottratta e non è più un bene comune ecco questo concetto dei beni comuni è uno di quelli che mi attrae molto della delibera perché ritengo che questa delibera possa anche impostare una riflessione su questo e in particolare sulla moneta bene comune che è uno dei beni comuni fondamentali così come il territorio così come l'acqua così come l'aria questa è la riflessione che mi sento di portare molto volentieri ascolterò le riflessioni degli altri consiglieri comprendo benissimo le ragioni di chi non è d'accordo con la delibera comprendo benissimo le ragioni di chi la sostiene e andrò a decisione in questo senso rispetto anche ai limiti di questa delibera e rispetto alle possibilità anche di pensiero e anche di prospettiva e anche di visione che ci apre grazie grazie consigliere questo intervento è per mettere in evidenza che se spesso e volentieri la politica arriva ad assumere livelli così bassi è perché anche noi ci mettiamo del nostro nel senso che quello che deriva da un meccanismo perverso utilizzato con lo strumento politico imprenditoriale cioè questa commistione che negli anni ha creato delle grosse falle è vero pure che però noi nel nostro piccolo non facciamo nulla per difenderci perché dico questo perché poi nasce la confusione io non ho mai visto non ho mai visto in qualunque settore in qualunque organizzazione in qualunque diciamo dove c'è dove ci dovrebbe essere un gioco di squadra che i vari componenti no non si aiutino fra di loro non ho mai visto anche nello sport è evidente questo che in un gioco di squadra sport basket palla a volo si fa squadra a difesa del proprio interesse del proprio risultato la rappresentanza politica non dico la politica noi abbiamo un unico strumento che è quello di fare politica rappresentiamo istituzionalmente dei cittadini per poter in modo anche sintetico cercare di dare un contributo cioè quindi di rappresentare quello che emerge sul territorio ora ora lo potremmo fare anche in modo non perfetto e come diceva qualcuno anche in modo più perfettibile però lo facciamo lo siamo abbiamo questo compito poi chi non si sente all'altezza di ciò può anche fare un passo indietro ma io penso che questo è il nostro meccanismo ora è sottile ed è facilmente con cioè si fa facilmente confusione nel dire che stiamo in un periodo economico politico sociale che ha toccato il fondo per poi non difendere comunque l'unico strumento che abbiamo che è quello di rappresentanza democratica ora la mia collega prima ha molto in modo molto esastivo ha cercato di mettere in evidenza ovviamente dei punti di questo regolamento che nel suo insieme ha un peso però quello che nella premessa ho detto mi serve proprio per mettere in evidenza il fatto che quando c'è un discorso di sussidiarietà bene è normale che si pensa al passaggio periferico ai cittadini quindi a un intervento diretto affinché questo possa avvenire però poi ci lamentiamo ci siamo lamentati ecco il concetto che non funziona e questo lo pongo come riflessione a quest'aula io mi auguro che altri colleghi possano intervenire ci lamentiamo quando dall'amministrazione centrale non siamo stati avvisati o messi nel percorso decisionale so che non è facile un concetto a questa alle 9 e mezza di mattina ai 10 ma insomma soprattutto per me ma insomma però è un concetto da analizzare perché se è vero che un regolamento di questo tipo permetterebbe al cittadino di entrare a far parte di un percorso in modo diretto allora non dovremmo lamentarci se dal centro arriva già una decisione che non ci tiene conto ma questo lo dico perché voglio mettere in evidenza la discrezia che nasce cioè il meccanismo che crea confusione perché a questo punto noi di per che cosa ci dobbiamo lamentare cioè demandiamo tutto a chi dovere e questo è il grosso sbaglio che ha fatto la politica noi lo possiamo dire a livello periferico a livello territoriale lo possiamo dire che la politica ad oggi ha demandato ad altri il proprio ruolo ed è questo il danno che noi riceviamo che abbiamo ricevuto perché nel momento in cui serviva effettivamente fare la differenza nessuno si è preso ne ha provato il coraggio e si è preso le responsabilità demandando spesso e volentieri alla magistratura demandando poi al meccanismo europeo cioè ad altri parlamenti la decisione di quello che serve a noi ma questo è un altro ragionamento però è figlio è figlio di un concetto che non abbiamo saputo sfruttare e se non riusciamo neanche noi che stiamo a contatto tutti i giorni dolenti o nolenti cioè in modo positivo o negativo con il territorio noi dovremmo essere i primi a mettere in evidenza questo meccanismo noi dovremmo utilizzare questo meccanismo anche perché esistono strumenti già idonei per poter dare alla cittadinanza la volontà di poter intervenire e dare il proprio contributo soprattutto per quanto riguarda i spazi verdi soprattutto per quanto riguarda le agliole soprattutto per quanto riguarda diciamo comunque dei parchi piccolini che possono essere già presi dalla cittadinanza basta che ne fanno richiesta che si costituiscano in comitato o associazione che possono comunque essere una figura con cui l'amministrazione poi ha a che fare però poi spesso e volentieri le richieste sono talmente minime perché poi è facile chiacchierare c'era una reclame tempo fa di una nota azienda e una nota attrice che diceva quanto ci piace chiacchierare perché a parlare siamo bravi e poi a fai fatti quindi non è solo la politica con tutti i suoi difetti ma è anche la parte attiva che se lamenta però spesso e volentieri uno se lamenta dal divano di casa che è più comodo quindi chiudo dicendo che al di là della perfettibilità e sono d'accordo con la collega insomma di migliorare qualunque tipo di documento qualunque tipo di regolamento al di là di questo il concetto base è che ognuno deve fare il suo ruolo e se è previsto in un meccanismo democratico il ruolo della politica dobbiamo avvalerci di chi ci suggerisce di chi ci dà elementi di chi comunque ci mette in evidenza ma poi comunque il percorso deve essere diverso e se continuiamo su questa strada è inutile che diciamo che vogliamo difendere e vogliamo pulire e vogliamo riorganizzare questo mondo politico quando noi direttamente non ne siamo coscienti grazie grazie consigliere Giuliano altri interventi ci sono altri consigliere Coglia prego io ho ascoltato con interesse le osservazioni dei consiglieri e in particolare il presidente Poli ci ha spiegato che la commissione era molto interessata all'argomento ne ha rilevato elementi utili che questo regolamento proviene dalla rete proviene quindi dai cittadini è vicino ai cittadini quello che il Movimento 5 Stelle voleva fare presentando questa proposta di regolamento era avvicinarsi avvicinare le istituzioni ai cittadini perché mai come oggi le istituzioni sono lontane dimostrano strafottenza dimostrano disinteresse nei fatti per i cittadini quale migliore occasione per noi che siamo nel territorio di dimostrare che ci può essere un rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini i cittadini che promettono e si prendono la responsabilità di curare un bene comune si avvicinano alle istituzioni e cominciano ad amare il territorio perché quello che si sta generando oggi non è amore verso il territorio c'è sempre più distanza tra le istituzioni e i cittadini questo era il concetto generale che volevo esprimere poi permettetemi una proposta visto che tutti i consiglieri che ho sentito sono più o meno favorevoli fare un regolamento di questo tipo e hanno detto che non c'è stato sufficiente tempo per trattarlo in commissione noi proponiamo di riportarlo in commissione per discuterlo approfondirlo e demandarlo laddove utile quindi quello che chiedo al Presidente del Consiglio è di verificare se la volontà del Consiglio è di migliorare quindi questo regolamento riportandolo in commissione e lavorandoci su grazie Consigliere Ciancio prego grazie Presidente saluto direttore del Municipio una riflessione che commissione si è fatta quindi c'è da percorrere una strada maestra prima di applicare un regolamento così importante perché bisogna ridare la città bisogna ridare il pubblico non possiamo assolutamente pensare che se prima non si regolarizzano tutte le situazioni un po' incagliate in procedure discutibili o a limite della legittimità noi possiamo pianificare il futuro quindi la pianificazione dei beni comuni dei beni pubblici non può essere attuata se prima non guardiamo uno sguardo a quello che il nostro dipartimento anche all'ultima delibera fatta la 219 dell'agosto 2015 gli ambiti di applicazione la definizione i valori di riferimento quindi sicuramente siamo indietro rispetto a Barletta Bari a Bologna come diceva qualcuno rispetto alla partecipazione vera ma io sarò sempre contrario quando qualche soggetto mi possa dire che il cittadino si debba sostituire all'amministrazione è un fallimento è un fallimento per tutti noi non so chi l'ha detto prima però è un fallimento quando cittadini in buona fede partecipano per condurre un bene pubblico e poi diventa ad esclusivo interesse del privato e su questo non mi trovo d'accordo in commissione sicuramente l'indice del regolamento richiede un impegno più sostanziale lo possiamo ben vedere guardare ma naturalmente in concomitanza dovremmo guardare alcuni aspetti che ahimè da Reggio Calabria a Trieste funzionano male perché il pubblico deve restare pubblico e nessun soggetto privato deve assolutamente impadronirsi della cosa pubblica ne abbiamo avuto l'esperimento di un atto che doveva venire oggi in consiglio e quindi proprio per questo motivo io ritengo che la discussione in commissione può continuare su questo regolamento ma di pari passo noi dovremmo guardare vigilare e sorvegliare che nel territorio la pianificazione e la rigenerazione urbana con il contributo dei cittadini dell'associazione diventi una cosa bella bellissima perché ci sono cittadini di serie A che pagano le tasse che vogliono dare una mano all'amministrazione capitolina all'amministrazione centrale però ci sono cittadini che si nascondono dietro questi processi per attuare solamente degli interessi personali individuali dove non hanno nulla a che vedere con l'interesse pubblico questo dobbiamo dire in questo municipio che parte da San Giovanni e arriva a Morena io mi taccio qua quasi affrascati bene allora quindi prima di fare un regolamento sai bene che in commissione quanto mi applico per guardare in profondità rispetto come ho detto tante volte per tante altre cose in questo momento c'è bisogno di un approfondimento puntuale è preciso su quadro generale di quello che è in essere grazie consiglieri grazie direttore grazie presidente del municipio grazie a lei consigliera Lenci grazie presidente buongiorno a tutti assessore presidente e anche un ben arrivato nuovo direttore allora io diciamo quando mi trovo davanti a queste scelte come diciamo amministratrice mi trovo sempre un po' in difficoltà perché ho sempre nella mia mente il fatto che i servizi debbano essere resi ai cittadini perché pagano le tasse perché i cittadini non hanno mai smesso di pagare le tasse però in questo frangente è molto semplice è come sparare sulla croce rossa perché noi per anni dobbiamo anche vedere da dove arriva il problema che abbiamo oggi sui territori per anni abbiamo lasciato mangiare tutto i muri abbiamo rascato la pentola e quindi oggi è normale che è difficile risalire la china io capisco che abbiamo i territori che sono noi veniamo continuamente chiamati dei cittadini veniamo taggati sui social ci sono problemi di diciamo sfalcio d'erba le buche per strada insomma i soliti problemi che penso che conosciamo tutti anche i muri di questo consiglio il regolamento logicamente deve essere visto in maniera diversa perché credo che gli amministratori non possono dimandare la loro responsabilità altrimenti non ci candideremo più facciamo parte tutti di associazioni quindi io credo che il passo che dovrebbe fare un amministratore prendersi la responsabilità capiamo che a livello centrale ci sono dei problemi quindi capiamo tutto quello che c'è stato con mafia capitale non è che ce lo siamo dimenticati oggi ne paghiamo per conseguenze ne pagheremo anche per lungo e però noi come amministratori di enti locali dobbiamo assolutamente riprenderci il nostro ruolo e quindi cercare di chiedere di spingere perché questa impasse in cui siamo caduti dopo mafia capitale deve andare avanti si devono muovere noi abbiamo bisogno di risposte sui territori e quindi mi dispiace perché poteva anche essere un buon lavoro magari lavorandoci bene una cosa importante che voglio chiedere noi dopo esamineremo il regolamento per quanto riguarda le palestre noi abbiamo fatto anche più di una commissione e io al presidente anche Marco Poli ho più volte richiesto delle commissioni sui problemi appunto dell'AMA del problema di vedere e di fare più commissioni ecco io questo chiedo ai consiglieri dobbiamo prendere la responsabilità dobbiamo approfondire i problemi e dobbiamo trovare una soluzione nelle nostre commissioni questo è quello che dobbiamo fare come amministratori se poi avremo la possibilità di fare un regolamento per farci aiutare ben venga però la responsabilità in prima è nostra perché siamo stati votati e abbiamo questa responsabilità di portare avanti bene il nostro lavoro grazie grazie a lei consigliera Lanci non c'è solo altri consiglieri esteritano prego grazie grazie presidente e signori consiglieri allora questo è un argomento che sinceramente il movimento doveva farlo partire dal basso consigliera Rossi doveva partire dal nostro municipio dai municipi che il comune che i due consiglieri comunali ci dicono a noi di approvare questo parere sui regolamenti a mio parere è sbagliato è sbagliato perché i municipi così come sono senza autonomia non hanno motivo di continuare adesso stiamo vedendo il giro del nostro prefetto che sta girando per i municipi e in effetti quando il prefetto gira per i municipi la politica non c'è e questa è la realtà quando l'ufficio giardini del nostro municipio ha dieci dipendenti di cui due disabili e gente che gira gira a voto ma gira ecco qui che i cittadini questo regolamento ecco qui che i cittadini intervengono e puliscono i parchi il parco degli acquedotti è pulito ordinato non grazie all'ufficio giardini direttore non grazie all'ufficio giardini dipartimento sub dipartimento è grazie ai volontari del parco degli acquedotti domenica mattina hanno pulito piazza Mileto puliscono il i le strade i volontari i cittadini con zappa piccone e pala perciò e però noi paghiamo l'ama i cittadini pagano l'ama i cittadini hanno votato a noi per dire che cosa come dobbiamo amministrare che cosa dobbiamo fare e noi diciamo ma non abbiamo i fondi ma noi dobbiamo chiedere al dipartimento chiedi all'assessore di qua e dice ma no ma il direttore ma sai i fondi il marciapiede ti devi trovare il fondo non va bene così non va bene così non va bene perché questo comune non è Cotolengo questo municipio non è questo municipio parte da Grotta Ferrata e finisce a San Giovanni che ci sono venti realtà diverse non puoi mettermi Centronico Largo con Piazza Reddi Roma non mi puoi mettere Morena con Piazza Zama sono realtà estremamente diverse sia la fisiologia dei cittadini e sia l'esigenza dei cittadini le scuole davanti alle scuole è sporco le strisce pedonali non ci sono visto anche stamattina non ci sono noi questa mattina in Via del Cale abbiamo avuto il problema che dei cittadini hanno chiuso il lucchetto e non si entra più e perciò bisogna fare un giro pazzesco dico queste cose perché se la politica non torna a fare la politica è inutile che stiamo in queste sedi noi abbiamo l'amministrazione pregherei Presidente di dire al consigliere Gugliotta di azzittarsi perché io non riesco a se scusate per cortesia per cortesia consigliere Sterlità eh no perché io già faccio fatica i cellulari dovrebbero essere metti a tacere allora prego consigliere Sterlità io non perdo occasione per sfottere il consigliere Gugliotta che riesce a ricevere a tenere rapporti con 3.000 persone al giorno è invidia questo detto questo tornando all'argomento una bella lotta una bella lotta sì però mi batte mi batte in campagna elettorale no però qui sul telefono mi batte detto questo detto questo caro Presidente è un momento di ribellarsi bisogna fare che i municipi grandi come Bologna che è Bologna in confronto al nostro municipio io capisco tutto l'importanza hanno espresso politici importanti però università eccetera però non è che io mi sento inferiore a un consigliere comunale di Bologna mi sento superiore a quello del Cottolegno perché perché con 4 questo lo so per cortesia su prego allora detto questo noi dobbiamo fare in modo che i municipi diventano autonomi che i nostri quartieri diventano a sua volta circoscrizioni perché io non vedo perché chi ha la passione della politica non è che adesso il comitato di quartiere adesso c'è la polemica con i comitati domani mattina troverò il suo elenco che io a Stelitano attacca i comitati ma pensa che qual è quanto spostano i comitati i comitati questi tipi di comitati così composti che non hanno non gliene può fregare meno del territorio se noi prendevano zappa e zappetta e intervengono sui territori non che non che fanno la strategia politica e qualcuno gli è derretta dobbiamo mettere insieme un gruppo di lavoro che e i partiti il consiglio non è possibile che i comitati hanno più peso di un assessore o di un presidente di un municipio vanno dal sindaco o vanno dal prefetto ormai vanno dal prefetto nei prossimi giorni mi sembra che qui verrà il prefetto è già venuto una volta domani ormai diventa anche routine e la routine non va bene alla politica perciò io quello che dico per concludere a questo mio intervento abbastanza banale che non doveva neanche esserci però o la politica si riprende e dobbiamo dire se l'amministrazione non funziona bisogna intervenire se l'ufficio Giardini non funziona va chiuso e per cortesia per cortesia ci sono uffici uffici che dobbiamo finisco 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 perché il problema so che non si risolve con questo argomento con questo parere noi dobbiamo intervenire per dire alla politica che bisogna intervenire sul problema del decentramento grazie consigliere Cofano prego grazie presidente colgo l'occasione per dare il benvenuto come gruppo SEL al nuovo direttore augurandogli un buon lavoro sul tema in questione in commissione ne abbiamo discusso e io mi sono espresso appartengo a quella che il presidente Poli insomma l'ha espresso prima alla frangia quella non radicale sul tema assolutamente noi abbiamo registrato e condiviso la parte diciamo del merito e comunque quello che è il tema centrale iniziativa più che lodevole la discussione su comunque su cui come gruppo SEL non siamo stati d'accordo è proprio il discorso della eccessiva poi perché poi diventa quasi un'ostentazione della responsabilità del cittadino che c'è e laddove deve finire diciamo il ruolo del cittadino responsabile deve iniziare quello della politica perché noi in questi anni ci stiamo battendo lo stiamo facendo come municipio in questa consigliatura con tutti i casi che chiaramente hanno caratterizzato questa consigliatura e la stanno continuando a caratterizzare ma c'è di fatto una battaglia in corso che dura ormai da 15 anni che è quella dell'autonomia del decentramento dei municipi e degli enti locali e io penso che se si fa questa battaglia legittima battaglia politica e poi però non si deve fare in modo che in realtà diciamo ok non contiamo nulla non siamo contati nulla fino a questo momento poi però nel momento in cui ci dotiamo di uno strumento per cui continueremmo a non contare nulla perché poi si dà la palla e la responsabilità ampia a 360 gradi alla cittadinanza penso che sia un elemento secondo me sbagliato ma non sbagliato nel merito ma sbagliato perché oggettivamente rischieremmo comunque di andare in contraddizione con quello che è il nostro ruolo la nostra la nostra adesione a quello che è il progetto dell'autonomia dei municipi io penso che anche per ciò che attiene l'esperienza che stiamo facendo oggi in questi mesi insomma noi purtroppo ci troviamo in una situazione in cui il comune di Roma è di fatto commissariato per dignità personale per onestà che contraddistingue il sindaco se io fossi stato nella sua persona e mi fossi trovato così esautorato avrei preferito salutare e dimettermi penso che sarebbe stato probabilmente un atto più politicamente dignitoso però di fatto ci troviamo in una realtà commissariata e con il commissariamento la nostra autonomia viene ancora più o meno questo dobbiamo assolutamente renderci conto tra l'altro con l'incontro che avremo domani col prefetto auspico che i consiglieri tutti insomma portino comunque questa necessità agli occhi del prefetto che è già venuto a giugno ha già sentito e recepito quali fossero i problemi nelle istanze del territorio per cui auspico che domani non verrà ad ascoltare nuovamente ma che dia risposte comunque o quantomeno iter procedurali avviati rispetto a quelli che sono i temi che sono stati posti e questo lo dico non per svagare dal tema ma perché è correlato perché comunque rientriamo sempre nel discorso che i nostri enti di prossimità non sono valorizzati e non sono organi che dovrebbero effettivamente dare risposte ai cittadini se noi ci dotiamo invece di strumenti per cui la nostra autonomia viene rivendicata e viene anche normata a quel punto noi potremmo rispondere seriamente ad alcune esigenze è chiaro che ci sono già degli strumenti efficaci per quel ragionamento lì io penso alle adozioni delle aree verdi anche in questo municipio sono state presenti però adottare un'area verde non significa sostituirsi alla politica adottare un'area verde significa pulire le cartacce per strada dal parco tutto ottimo ma ovviamente non significa potare le essenze arbore perché chiaramente quello è un procedimento che non può aspettare al cittadino e questo è il tema centrale per cui io penso che Roma nella sua complessità deve un attimino dare una risposta seria a quelle che sono le esigenze dei municipi che sono ormai nemmeno delle micro città perché il nostro non è più nemmeno una micro città è una città vera e propria è una metropoli nella metropoli e dobbiamo cominciare a dotarci di strumenti reali e concreti per rispondere alle esigenze per cui noi abbiamo contestato non la struttura ideale del regolamento quanto il fatto che secondo me è un regolamento che comunque va contro quello che è il tema del decentramento e dell'autonomia che abbiamo rivendicato fino ad oggi grazie grazie a lei consigliera della notte prego hai visto buongiorno a tutti io sono particolarmente dispiaciuta perché questa delibera è passata molto velocemente in commissione su un tema molto importante perché da quando ci siamo insediati io sono nuova nella politica non abbiamo fatto altro che ascoltare in commissione comitati 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 no perché i cittadini sono importanti no perché i cittadini sono importanti poi parliamo di un regolamento in cui è giusto anche dare il regolamentare proprio l'attività dei cittadini io mi trovo come cittadina ad essere quelle che vanno a pulire i famosi comitati di genitori che vanno nelle scuole a sistemare le aule dei figli a sistemare e si trovano e si scontrano spesso con i dirigenti che non ti danno l'autorizzazione per entrare allora tutto un giro per chiedere ma come possiamo fare per entrare nelle scuole ma i nostri figli non possono vivere in queste situazioni i nostri figli non possono andare a scuola e non possono neanche andare al bagno perché i bagni sono sporchi ecco non è un sostituirsi né alla politica a niente è un collaborare visto che le scuole sono state aperte sia ieri che oggi gruppi di genitori si sono ritrovati a sostituirsi al servizio giardini nelle scuole per permettere ai propri figli di entrare e non cascare sugli aghi di pino sulle foglie allora perché benvengano queste azioni perché non tutelarle allora perché non regolamentarle perché non dire tu cittadino devi arrivare sin qui dopodiché basta oppure tu cittadino puoi fare questo e non quest'altro se noi continuiamo a permettere e non dare delle regole certo i cittadini possono fare quello che vogliono invece era un modo per anche tutelare chi voleva fare qualcosa ora io non lo vedo come un sostituirsi alla politica come un limitare l'autonomia e il decentramento io lo vedo soltanto come una maggiore partecipazione ma una partecipazione che da quello che leggo nella nella delibera c'è scritto che il cittadino attivo sono tutti singoli o le formazioni sociali non a scopo di lucro riconosciuto o non riconosciuto e quindi non c'è questa paura che alcuni sentono di avere delle associazioni delle cooperative no perché siamo singoli cittadini che collaboriamo io capisco che è difficile per alcuni politici pensare una cosa del genere però dovremmo tornare a pensarlo in questo modo perché il politico non è una persona che sta in cattedra e decide senza lavorare forse perché provengo da una frange in cui ho sempre lavorato e quindi ecco perché sono entrata e mi sono coinvolta in politica perché ho lavorato in mezzo alle persone non è stato il contrario come mia insomma la mia carriera non è stata quella è stata lavorare dal basso e poi salire allora penso che tutelando e regolamentando poteva essere fatto un buon lavoro quindi mi dispiace che il lavoro è stato diciamo licenziato velocemente per i tempi tecnici purtroppo sicuramente non per causa né del Presidente né della Commissione però prendo la palla al balzo del Consigliere Goia che ha chiesto di ritirare per fare ulteriori osservazioni e magari perché no cioè anche limitarlo cercare di dargli delle limitazioni personali perché magari ci sembra troppo grande troppo dare troppa autonomia ai cittadini però perché non lavorarlo e dire no questa cosa ci piace questa cosa non ci piace cioè bocciarlo a priori un'idea così interessante penso che sia veramente insomma non mi sento di appoggiare il parere contrario grazie grazie ultimo intervento che c'ho io consigliere Vitrotti sì grazie Presidente colleghi consiglieri mi associo anche io e porto i saluti al nuovo direttore ovviamente con un buon lavoro insomma però per entrare nel merito della proposta credo che ci sono diciamo la discussione mi ha convinto e sono persuasa di due di due fattori il primo e credo che sia questo diciamo il il light motive che ci unisce e il fatto che il volontariato poi lo possiamo chiamare i cittadini insomma credo sia una risorsa preziosa ma contestualmente credo sia compito delle istituzioni saperlo organizzare per raggiungere obiettivi pubblici quindi se questo è quello che diciamo ci ispira o dovrebbe ispirarci è ovvio che come è stato incardinato il regolamento che ci hanno presentato pone a noi alcune domande e mostra le sue criticità perché se è vero che in questo momento la difficoltà da parte delle istituzioni e dell'amministrazione anche di prossimità come quella dei municipi per non parlare poi di quella capitolina mostra tutte le sue le sue difficoltà vero è però che se non si trova il giusto strumento per mettere in relazione quella parte di volontariato e di cittadinanza attiva con l'amministrazione stessa il rischio è quello che un po' tutti stanno dicendo cioè che non c'è più una distinzione evidente dei due ruoli o diciamo per i proponenti non so se è stato fatto più o meno volontariamente ma si tende a nascondere totalmente il ruolo dell'istituzione quindi è un po' da qui che leggo le preoccupazioni appunto che sono state anche affrontate già in commissione di dire forse bisognerebbe andare oltre quello cito diciamo le parti del regolamento il patto di condivisione oltre la collaborazione tra cittadini ed amministrazione perché altrimenti se siamo ai patti e alle collaborazioni e non abbiamo uno strumento che sia anche per noi amministrazione controllabile e gestibile e questo vorrebbe dire anche per esempio passare per tutte quelle criticità economiche di economicità di efficienza di trasparenza e di imparzialità per un'amministrazione se vengono meno questi penso che siano dei punti fermi per un'amministrazione sui quali poi deve fare le sue scelte e quindi aprirsi alla cittadinanza cercando di dettare però le regole se viene meno questo per me viene meno anche un regolamento e viene meno proprio se ci viene presentato come una sorta di supplenza a quello che l'amministrazione per ovvie ragioni non può più fare se noi ci fermiamo a questo è inutile essere qui è inutile essere qui se invece noi stiamo anche dalla parte di chi quell'amministrazione cerca in un modo anche nella difficoltà e di saper cogliere quello spirito che ormai oggi ce lo abbiamo sotto gli occhi sono sempre di più i cittadini che si auto si organizzano in comitati e spontaneamente si prendono cura delle io in questo ci vedo un grande senso civico che è mancato nel corso tutti ci irritiamo quando vediamo camere intere gettate intorno ai nostri cassonetti e poi ci lamentiamo perché l'ama non li raccoglie ma tutti sappiamo che l'ama fa anche la raccolta a domicilio allora forse la rinascita di un senso civico delle cose va ovviamente interpretata da parte di un'istituzione ma l'istituzione è l'istituzione e quindi o sa tradurre in processi politici e in questo non ci vedo appunto un attacco così sfrontato da parte della politica perché sennò veramente saremo qui a cantare un De Profundis che veramente non mi appartiene però o c'è questo cioè c'è la voglia di starci dentro questi processi e quindi trasformarli affinché siano finalizzati ovviamente obiettivi pubblici in nome di quelli imparzialità efficienza economicità di cui parlavo prima oppure diciamo viene meno per me anche il senso di fare un regolamento quindi diciamo se e non so se sia se è giusto il tempo o basta riportarlo in commissione per trasformare quello che però mi sembra ma è ovvio io lo rispetto assolutamente perché è proprio dei proponenti il nesso diciamo su cui si incardina il loro pensiero quindi la massima rappresentanza e cercare di arginare quella che potrebbe essere diciamo una proprio in questo momento è anche abbastanza semplice dirlo mostrare tutte le criticità delle istituzioni io mi trovo dall'altra parte e quindi se si riesce a fare il processo inverso e quindi si cerca tutti insieme di stare da parte di chi quella cioè dell'istituzione che sa governare gestire con l'obiettivo pubblico prefissato allora forse possiamo riaprire una discussione sicuramente molto più interessante grazie grazie allora non ci sono altro intervento io devo precisare una cosa consigliere coia prima ha avanzato una richiesta faccio presente che noi avremmo dovuto esprimere il parere su questa cosa entro il 29 agosto quindi diciamo che però se i consiglieri sono d'accordo il tempo lo possiamo anche cioè non tener conto di questa scadenza del 29 agosto e riportare se il presidente della commissione è d'accordo e riportare l'atto in commissione e continuare possibilmente la discussione io personalmente sono disponibile non ho niente in contrario però chiaramente vorrei il consenso su questa cosa del consiglio tenendo presente che la scadenza di questo parere era il 29 agosto va bene allora rimetto no volevo sentire un attimo il presidente della commissione grazie presidente la discussione che si è incardinata questa mattina dimostra che parallelamente i lavori della commissione sono stati parimente difficili proprio perché qui stiamo parlando di un concetto molto particolare che va sviluppato va ampliato e va perfezionato non limitandoci a prendere su un sito internet un elaborato e quindi trasportarlo per la nostra città l'ultimo intervento della collega Vitrotti è semplificativo molto molto sensato molto appropriato sulla difficoltà che noi ci troviamo ad affrontare in questo momento personalmente io non ho nessun tipo di problema a riportare la deliberazione in commissione e dedicare anche ad oltranza una serie di sedute però voglio rilevare che tutti i gruppi politici in commissione hanno espresso la loro contrarietà per cui accolgo voglio dire sulla scorta delle sollecitazioni che oggi sono pervenute se i gruppi politici hanno voglio dire voglia di affrontare questo problema che non è semplice ripeto il regolamento si compone di moltissimi articoli parte dalla rigenerazione urbana semplice alle grandi rigenerazioni di natura urbanistica che fino adesso hanno visto Roma Capitale impegnata con una serie di atti che possono essere i piani di recupero urbano i contratti di quartiere tutta una serie di strumenti che sono difficili da digerire già adesso per noi che siamo addetti ai lavori è un lavoro supplementare che io personalmente sono disponibile a fare laddove però tutti quanti i consiglieri sono disposti a seguire a dare il loro contributo perché se c'è la contrarietà è inutile che andiamo a commissione tenendo presente che il rischio qual è che magari il nostro parere arriva a Campitoglio quando già è stata caratterizzata l'atto e quindi poi non tengono conto delle eventuali osservazioni su questo va bene quindi non diciamo consigliere serietà io volevo portare un contributo a quello che lei ha proposto innanzitutto condivido l'argomento e perciò secondo me il consigliere Poli ma non solo il consigliere Poli tutte le commissioni possono fare una commissione per affrontare questo problema e portarlo poi in un unico documento ma facendo così presidente lei apre un precedente perché fra qualche minuto noi daremo un parere su che scadeva il 18 settembre sinceramente allora a questo punto lo vogliamo non abbiamo avuto il tempo per guardarlo con attenzione non abbiamo avuto il tempo per condividerlo con i cittadini portarlo nei territori a questo punto facendo così apre un precedente ma non è una scelta mia non è la stessa mi rimetto all'aula su questo quindi non voglio precludere da maniera più assoluta la scelta del consiglio allora di fronte a questa proposta di riportare diciamo la delibera in commissione tenendo presente che c'è il rischio che diciamo che l'espressione poi in commissione si rifà la discussione poi deve andare in consiglio quindi il parere potrebbe essere espresso magari tra 15 giorni 20 giorni non lo so il rischio è che e diciamo poi questo parere non verrà tenuto conto dal Campidoglio quindi io diciamo anche diciamo quello che diceva il presidente della commissione il fatto che diciamo la proposta è piuttosto corposa piuttosto complicata piuttosto difficile io io andrei diciamo al parere oggi al parere oggi fermo restando che diciamo che in commissione si può approntare fare un lavoro di approntare un atto che possa poi essere una proposta del settimo municipio su questo argomento io farei così insomma ecco bene consiglio Giuliano vorrei portare una riflessione allora invece di cadere nel nel meccanismo o di aprire o non aprire dei precedenti eccetera allora io penso che sia più semplice a questo punto siccome stiamo parlando di un regolamento molto articolato un po' come poteva essere quello dei impianti sportivi che con il quale ci siamo un po' ammazzati e sbrigati eccetera ma non ne tranno conto minimamente nell'amministrazione comunale e non si sa neanche se ne parleranno allora invece di essere oggetti no di un meccanismo inverso cerchiamo di essere soggetto allora io immagino che i colleghi possano interpellare i colleghi comunali siccome non è uno solo sono quattro e gli dicono siccome ci avete mandato questa roba sotto le ferie i tempi non c'erano rimandate tanto farete delle correzioni farete amendamenti farete un testo diverso rimandateci un contesto ritirate da lì rimandateci un contesto intelligente con i tempi che ci permettono di poter intervenire e dare il nostro questo diciamo una cosa soggettiva dei singoli consiglieri e dei proponenti è il suggerimento presidente non diventa assolutamente da noi ma certo io sto dando un suggerimento dicendo potrebbe essere intelligente in questo modo di poter divertire credo 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 che noi oggi possiamo benissimo andare a parere questo non esclude in una maniera più assoluta che diciamo i proponenti del consiglio comunale diciamo visto anche la discussione che c'è c'è stata ci sarà in altri consigli municipali possano rivedere diciamo questa proposta magari sospenderla fai ripercorrere l'iter per essere maggiormente contivisa e costruita in maniera diversa in modo che ci possa essere consenso un po' di altri gruppi politici va bene allora consiglio vuole intervenire consiglio vuole intervenire consiglio io passo alla dichiarazione di voto ci sono le dichiarazioni di voto consigliere Lozzi prego Noi naturalmente diamo il parere favorevole al regolamento quindi sarà il parere contrario alla delibera si tanto ho due minuti per dire vorrei far presente una cosa che forse oggi noi non avremmo dovuto esprimere parere come un municipio questo regolamento non è stato scaricato da internet questo regolamento è il regolamento di Bologna che sta sul tavolo della nostra giunta comunale noi avevamo l'occasione di prenderlo di argomentarlo non esprimevamo parere nei termini non esprimevamo parere lo mandavamo alla nostra giunta con le nostre osservazioni e soprattutto segnalavamo quali erano le criticità quello che impedisce di mettere in atto questo regolamento oggi sono tutti quei meccanismi e quelle deliberazioni che pesano solamente sulla testa di Roma sulla testa di Roma perché deve rientrare dei soldi perché la capitale non c'è i soldi e soprattutto che vuole mettere in vendita o in affitto tutti i beni pubblici che quindi non potrebbero mai essere oggetto di questo regolamento allora noi potremmo o avremmo potuto in maniera intelligente dire siamo d'accordo sul principio vi diciamo quali sono le criticità dal territorio da tenere conto mentre voi lo stilate perché tanto è questo quello che loro hanno sul tavolo il Movimento 5 Stelle non ha fatto altro che integrarlo in piccole parti perché se lo vai a leggere l'80% è uguale a quello di Bologna noi in maturità politica diciamo noi non esprimiamo né parere favorevole né parere contrario tanto più che è arrivato in un periodo particolare lo osserviamo e te lo mandiamo sul tavolo della Giunta in modo che quando stilerai il tuo lo farai tenendo conto anche di noi grazie altre dichiarazioni di voto consiglio Giuliano e Fratelli d'Italia prego grazie Presidente allora nell'essere in questo caso favorevole al parere contrario ma per rispetto e sensibilità ai colleghi che l'hanno insomma di cui sono intervenuti vorrei fare due precisazioni il primo è che comunque si riaggancia al fatto del decentramento quindi maggiormente avrebbe efficacia questo regolamento se i municipi fossero autonomi per cui una politica di questo tipo potrebbe fare insieme all'istituzione la differenza quindi potrebbe essere una distanza meno ampia dal centro e quindi avere il contatto e il risultato di una scelta politica è facile però poi dire ed ecco perché appunto non siamo d'accordo a questo regolamento è facile dire capito che la cittadinanza ha il suo valore quando non ha responsabilità perché faccio l'esempio faccio l'esempio attuale noi spesso e volentieri ci troviamo a pensare in commissione a proporre e poi ci scontriamo con gli uffici i quali ci dicono che certe cose non sono fattibili perché noi facciamo la proposta noi siamo deputati non nazionali locali a fare proposte a dare delle idee a dare delle indicazioni dopodiché gli uffici la parte amministrativa mette in fila e se ti dice che questo non è possibile anche al di là della bella idea tu non lo fai ecco l'esempio è un po' questo il cittadino il volontariato quello che sia ti dice di fare delle cose perché le pensa ma poi non ha la responsabilità di quello che fa perché tanto la responsabilità richiederà sempre sull'istituzione quindi manca c'è questo fungo c'è questo buco e poi ovviamente in questo momento siamo come si dice qualcuno ha detto esodorati dal punto di vista politico domani viene il prefetto non per dire quello che funziona o non funziona ma per diluire tutto il problema che esiste su Roma e fare da da calmante cercando di sostituire chi dovrebbe avere un ruolo politico e girare per le periferie per i suoi quartieri per i suoi municipi e dire che c'è e che comunque ci si può contare sulla presenza sul suo ruolo invece arriva un funzionale dello Stato che ti viene qui a dire quello che è che non è faremo diremo lettere e testamento ma è solo chiacchiere distrittivo dichiarazione di voto consigliere Giuliano questo per dire che mancano anche qui gli strumenti politici per poter ragionare di questo concetto e l'ultima cosa quello che mi preoccupa poi che se tutto questo nasce o prende spunto dalle vendite patrimoniali dell'amministrazione nel senso che togliendo tutto questo non c'è lo spazio per il volontariato o per le associazioni beh questo non penso che sia un compito che possiamo comunque farcene carico noi perché l'amministrazione romana avrà dei vincoli e dovrà rispettare certi meccanismi certo è che se tramite questo si va a coprire chi non rispetta le regole e si avvantaggia di un bene comune di tutti avvantaggio di pochi questo Fratelli Italia non è d'accordo grazie altre dichiarazioni di voto non ci sono passiamo alla votazione allora ripeto stiamo votando su una proposta in cui si esprime parere contrario alla quindi chi è d'accordo su parere contrario vota a favore bene chi è favorevole al parere contrario facciamo la controprova chi è contrario al parere contrario che si esprime consigliere matrona come ha votato favorevole al parere contrario consigliere carlone non hanno favorevole al parere contrario a favorevole al parere che si è Grazie a tutti. 18 voti a favore e 5 contrari. Allora, chi sono i scusatori? Scusate, diamo una mano anche. Presidente, scusi, i contrari erano favorevoli al parere contrario, erano i numeri che ha detto, ma i contrari erano Lozzi, Coglia, Tutino, Lanotte. Quindi 4. 4 contrari al parere contrario. Sono 19 favorevoli al parere contrario e 4 contrari al parere contrario. Quindi l'atto col parere contrario è approvato. Passiamo al punto numero 4. Proposta di deliberazione per l'espressione parere sulla proposta 101, interizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del nuovo contratto di servizi per la gestione dei servizi funebri e cimediali. Presidente della Commissione, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, la proposta di deliberazione ci perviene direttamente dalla Giunta Comunale e fa riferimento appunto all'approvazione delle linee guida, degli indirizzi programmatici propedeutici, propedeutici alla predisposizione del nuovo contratto di servizio per la gestione dei servizi funebri e cimediali. Nel 1997-98, con una serie di deliberazioni, il Consiglio Comunale ha deliberato l'accorpamento dei servizi funebri e cimediali attribuendo all'AMA questo servizio. Nel corso del tempo AMA è stata poi trasformata e parallelamente l'amministrazione comunale ha poi adeguato la propria regolamentazione per adeguarla al nuovo assetto societario dell'azienda. Quindi nel successivo anno 1999 il Consiglio Comunale ha approvato poi il contratto di servizio che è il provvedimento essenziale, fulcro, che disciplina poi nel dettaglio il servizio. In questo caso stiamo parlando di un servizio funebbre e cimiteriale che non ha registrato particolari problematiche nell'arco del tempo. Tuttavia la giunta capitolina, in virtù delle proroghe che ci sono state, l'ultima è perfezionata. Nello scorso mese di luglio, con vigenza alla fine del mese corrente, ha indotto la giunta capitolina a ripredisporre il proprio provvedimento di impostazione generale, quindi di indirizzi programmatici, ha otto anni dalla prima elaborazione del contratto dei servizi. Ciò evidentemente per un'esigenza di perfezionamento del precedente testo, per adeguare questo strumento convenzionale ai cambiamenti di carattere sociale e religioso e per effetto anche delle integrazioni che ci sono state con le nuove realtà culturali nel nostro paese. La Commissione ha dedicato un paio di riunioni a questa proposta di deliberazione, affrontando con uno spirito costruttivo ciò che Roma Capitale ha predisposto. Devo dire che questi indirizzi programmatici e linee guida sono per regolamento proprietario che poi alla elaborazione del nuovo contratto di servizio, per cui per loro natura tendono a esaltare l'eccellenza del servizio e quindi come linea di principio non mi sembra irragionevole porre come obiettivo la massima tutela del consumatore, la massima cura nel servizio, per cui questo tipo di indirizzo non può che essere tendente all'eccellente. La cosa che dovrebbe verificare, come succederà a breve per il contratto di servizi dell'AMA, quindi per la gestione dei rifiuti, il contratto di servizi poi conterrà nello specifico tutta quella disciplina che attiene alle numerose incombenze che AMA dovrà curare per effettuare un servizio efficace, efficiente e che rispetti soprattutto i principi di economicità per i cittadini e nel contempo per l'amministrazione. Non a caso la delibera, cita già da ora, una volta approvate le linee programmatiche, con successivo provvedimento all'amministrazione capitolina procederà ad affidare al soggetto gestore tutta la materia. Gli indirizzi sono chiari, i servizi offerti vanno ovviamente per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali alla concessione, alla riscossione degli oneri dovuti dai cittadini. L'unica cosa che abbiamo potuto osservare è che rispetto alle precedenti linee programmatiche gli aumenti dell'Istat venivano prima deliberati dall'aggiunta capitolina di volta in volta quindi di anno in anno l'aggiunta con propria deliberazione provvedeva ad adeguare gli indici Istat adesso questo attempimento, questa incombenza viene demandata direttamente al soggetto che gestirà poi i servizi trattandosi comunque di importi che sono limitati all'indice Istat quindi non è che il gestore subambientà cifre assurde, sono quelle determinate dalla normativa nazionale non abbiamo formulato nessun tipo di osservazione al regolamento ripeto, il regolamento, le linee programmate, gli indirizzi sono tendenti all'eccellenza del servizio cosa che noi ce lo spieghiamo, possa essere poi tradotta nel contratto di servizio che esamineremo ovviamente con maggiore profondità per sviscerare le cose che eventualmente non vanno la commissione ha espresso un parere favorevole all'unità dei presenti e con questo parere lo sottomaniamo oggi all'attenzione del consiglio per l'approvazione grazie grazie a lei, apriamo la discussione ci sono interventi? no consigliere seritato io volevo cogliere l'occasione tra l'altro tutti hanno fatto gli auguri di benvenuto al nostro nuovo direttore mi associo anch'io prima abbiamo avuto problemi di conteggio pregherei a lei presidente e alla sua autorità di dire al nostro direttore se trova la soluzione per trovare che vado all'argomento dell'ordine del giorno un po' funebre oggi questa cosa però il problema è che dobbiamo fare un consiglio aperto sull'ama presidente e riguardare il contratto di servizio non si può continuare a pensare che l'ama su via pulisce bisogna far pulire i cassonetti bisogna far pulire i marciapiedi e questa guerra su cosa fa chi tra l'ufficio Giardini e l'ama questo argomento mi sentivo di intervenire per cogliere l'occasione per fare un consiglio aperto sull'ama invitando i comitati di quartiere le associazioni le scuole le scuole perché tutto parte da lì perché ha voglia che noi rincorriamo quelli che buttano le camere da letto le camere da pranzo vicino al cassonetto inutile che spostiamo i cassonetti stiamo parlando del contratto di servizio ama cimiteri mi dispiace so che l'argomento è triste però è quello l'argomento in discussione io in caso che di ama in consiglio se ne parla sempre poco e io invece sono bombardato da segnalazioni di mondezza allora visto e considerato che l'ama ci chiede il comune ci chiede un parere sull'ama io colgo l'occasione per affrontare questo per chiedere invitare lo stesso il Presidente della Commissione Ambiente che capisco che le deleghe sono troppe giardine di fare un documento e proporlo in aula invitando il Presidente e la classe dirigente della questo nuovo ama grazie io le faccio ti poverò allora altri interventi consigliere Giuliano grazie Presidente allora io sfrutto il fatto di dire che il momento opportuno per non dare come esponente di Fratelli d'Italia un parere in quanto sono un po' mi sono un po' stancato del fatto che veniamo come si dice considerati utilizzo un termine che è semplice da comprendere l'ultima ruota del carro perché anche dal punto di vista logistico non si può avere una come si dice una copia con 5 giorni 6 4 giorni 3 giorni per poterla utilizzare allora io immagino che a Roma Capitale perché così almeno pensiamo di poter essere parte integrante ma non lo siamo di un sistema non posso immaginare che in una commissione che in un capigruppo che in consiglio i consiglieri non abbiano tutti gli strumenti o tutti gli allegati o tutti i documenti questo significa che ci mette in difficoltà questo poi è normale che i nostri uffici fanno il massimo perché quello è la risorsa che hanno quelle le possibilità che hanno il Presidente del Consiglio ha avuto una copia raccomandandosi al Prefetto il Presidente del Consiglio ha sbagliato atto che stiamo parlando del contratto a Roma Cimiteri non quello del fatto quello l'abbiamo avuto tutti quello del Cimiteri no lasci perde lasci fare come dice lasci stare che entra anche questo però utilizzo il fatto che c'è il nuovo direttore per dire appunto che nella prossima capigruppo possiamo parlare di questo argomento perché se dobbiamo essere parte integrante di un meccanismo dobbiamo avere abbiamo le cartelline e che in queste cartelline se riusciamo ad avere i lavori in modo intelligente possiamo dare il nostro contributo quindi per questo i prossimi atti che non abbiamo avuto modo di discutere io sarò assente dall'Aula grazie altro intervento consigliere io seguirò l'esempio del consigliere Giuliano perché anche noi oltre che questa commissione si è riunita una volta sola per esprimere il parere quindi non abbiamo saputo nulla tanto più perché la consigliera nostra era assente e non abbiamo potuto leggere nulla pertanto siamo costretti come ha detto il consigliere Giuliano non partecipare al voto uscire dall'Aula e lasciarvi questa castagna a voi perché giustamente i cimiteri riguardano voi i funerali riguardano a voi perché siete voi quelli che fate i funerali cioè che fate fare i funerali no che fate il consigliere patronale grazie allora altri interventi altri scusate non mi arrabbiate scusate altri scusate per cortesia per cortesia altri interventi non ci sono passiamo a dichiarazione di voto no scusate dichiarazione di voto ci sono dichiarazioni di voto no passiamo alla votazione allora chi è favorevole al parere favorevole chi è contrario chi si astiene chi si astiene chi si astiene chi si astiene due tre tre astenuti tre astenuti allora scusate per cortesia allora quindi 13 voti a favore tre astenuti quindi il parere favorevole è approvato passiamo all'ultimo atto discussione proposte di deliberazione per espressione e parere sulla deliberazione di giunta numero 273 affidamento dell'esercizio e dei servizi di trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana e dell'attività complementare adatta a società per azione approvazione contratto di servizio periodo primo agosto 31 2015 31 dicembre faccio presente che diciamo nell'atto che sta andando in votazione nella nella battitura quindi è una cosa tecnica nell'oggetto c'è scritto deliberazione di giunta capitolina va diciamo prima di questa deliberazione va scritta espressione parere su questa cosa quindi diciamo è un errore di battitura quindi aggiungeremo espressione parere allora chi presenta l'atto presenta la commissione assessora assessore prego signor presidente consiglieri il parere che oggi l'aula è chiamata a discutere e a votare riguarda c'è un punto strategico di quello che sono i servizi della nostra città è l'affidamento dell'esercizio dei servizi del trasporto pubblico di superficie e quello metropolitano la deliberazione così come in giunta la discussione in giunta in commissione voglio dirlo chiaramente questo è un contratto di servizio che è già in essere cioè già è attivo l'amministrazione e le difficoltà dovute alla ricapitalizzazione di adac alla mancanza delle risorse ha fatto sì che quest'estate la giunta capitolina nella seduta del 6 agosto ha approvato il contratto di servizio che è tuttoro vigente che ha una scadenza fino a dicembre 2019 questo contratto di servizio deriva da una vecchia deliberazione della fine del 2012 con l'affidamento in house di adac dei servizi che attualmente adac svolge è stato modificato con l'approvazione delle linee guida rispetto ai contratti di servizio che noi abbiamo discusso in una seduta in un parere a febbraio di quest'anno e che recentemente nell'inizio del mese di luglio è stata approvata in consiglio comunale e tiene conto logicamente di quelle che sono state le linee politiche le linee guida sul trasporto sulla mobilità più in generale che sono state approvate attraverso l'approvazione del piano generale del traffico urbano ad aprile di quest'anno detto questo la peculiarità che questo contratto di servizio ha riguarda sicuramente un recupero dell'efficienza e dell'efficacia del servizio attraverso una razionalizzazione della rete di superficie attraverso una lotta dall'evasione e all'elusione rispetto all'abusivismo di chi non paga il biglietto rispetto a un raggiungimento dei livelli dei servizi nel contratto di servizio viene classificato come livello adeguato dei servizi che deve tenere conto per la prima volta in questo contratto di servizio è previsto dei costi obiettivo costi obiettivo che dovranno raggiungere entro il 2016 i costi standard questi costi standard per la prima volta sono esplicitati nel contratto di servizio attraverso le varie tipologie dei mezzi che l'amministrazione e l'Ada che usano per espletare il servizio quindi una classificazione dei costi standard per gli autobus sia diesel che a metano per degli autobus elettrici per i filobus per i tram per le metropolitane questi elementi così stringenti sono necessari e vanno in linea con quello che è pure la politica che l'amministrazione capitolina svolge attraverso le politiche anche con la delibera del 2014 che tiene conto del piano di rientro ma io dico in maniera positiva si pone l'obiettivo di una così come è previsto anche in questo contratto di servizio di un incremento seppur minimo dei chilometri annui nel 2015 sono previsti 101 milioni di chilometri per il trasporto su gomma di superficie e 8 milioni e 889 per quelli di metropolitana nel 2016 si raggiungono i 110 milioni di chilometri complessivi mantenendo costante i chilometri sul trasporto su gomma e l'incremento è previsto rispetto ai passaggi della metro che con l'arrivo a San Giovanni si pensa possa sicuramente anche incrementare le sue frequenze ci sono alcuni elementi diciamo ulteriormente innovativi in questo contratto di servizio che riguardano sia il rapporto con i municipi ricorderete uno degli elementi che abbiamo ragionato insieme sulle linee guida e nel rapporto con i cittadini il rapporto nel contratto di servizio è detto espressamente che sia l'ATAC che l'agenzia per la mobilità devono garantire un rapporto semestrale con i municipi rispetto ad un confronto rispetto alle valutazioni che noi che si hanno sul territorio sul trasporto pubblico e per quanto riguarda i cittadini utenti l'ATAC garantisce il massimo della trasparenza pubblicando mensilmente sono obbligati un rapporto di servizio mensile rispetto al servizio svolto e quindi dando ai cittadini la possibilità di formulare quelle che sono le osservazioni e i reclami sul servizio stesso diciamo che questo tipo che è il servizio entro il 2015 avrà in dotazione così come è previsto nel PGTO nelle liquide guida un sistema automatico di rilevazione del servizio stesso in modo da poter quantificare e garantire quelli che sono i livelli dei chilometri percorsi e il livello del servizio sulle varie linee l'ulteriore elemento diciamo che è presente in questo contratto di servizio sono i comitati di vigilanza che sono stati istituiti due rispetto alle varie funzioni è stato istituito un comitato di vigilanza sul corretto svolgimento del servizio e un comitato di controllo analogo sull'andamento economico e finanziario che come sapete bene è una delle criticità più forti che questa amministrazione deve affrontare sia per un salvataggio di ADA che per mantenere come credo che tutti quanti noi pensiamo un servizio pubblico di trasporto nella nostra città e questo comitato analogo sarà formato da tre persone di cui una un membro del dipartimento mobilità e trasporti un membro della ragioneria generale dell'amministrazione capitolina e un membro del dipartimento della partecipazione e controllo del gruppo di Roma capitale così come l'assessore esposito al momento dell'approvazione di questo contratto di servizio ha detto io lo ripeto solamente credo che un rapporto interistituzionale anche con l'amministrazione regionale sia necessario alla nostra città per poter sviluppare il trasporto pubblico noi veniamo da un periodo in cui l'amministrazione regionale negli anni precedenti non conferiva alla nostra città alcuna risorsa con gli anni la regione ha aumentato quello che era diciamo il trasferimento alla nostra città di risorse economiche io auspico che queste risorse possano aumentare in modo di dare un servizio sempre migliore ai nostri cittadini voi tenete conto che per quanto riguarda il trasporto complessivo della nostra regione Roma vale il 70% dei passeggeri non so se si potrà raggiungere nel breve questo livello credo che però le esigenze della nostra città lo richiedano è per questo che sia queste diciamo caratteristiche che sono state introdotte nel costringenti nel controllo dell'attività di ATAC l'innovazione quindi la coerenza con i documenti di politica di trasporto di mobilità della nostra città la giunta ha espresso un parere favore così come la commissione competente grazie allora ringraziamo l'assessore continuiamo apriamo la discussione chi vuole intervenire prego consigliere ciancio grazie presidente grazie assessore della relazione abbiamo discusso in commissione su come dire il lavoro che dovevamo forse puntualizzare meglio ma ci ritroviamo in una condizione in cui dobbiamo assolutamente andare avanti rispetto a un atto che addirittura è stato fatto prima che l'assessore entrasse in carica io correttamente devo dire caro assessore che forse lei trascura di darci delle notizie molto importanti io non so se lei sa di quanto si tratta di quanto ammonta questo contratto di servizio se sa che da agosto al 31 dicembre su un totale molto grande per 12 mesi ne prendiamo circa la metà quindi i numeri erano importanti da analizzare in commissione io mi aspettavo che siccome abbiamo tirato fuori il problema delle fermate della vetustà di alcune cose importanti che vediamo sui marciapiedi di tutto quello che la cittadinanza vede e poi ci scopriamo che spende dal 1 agosto al 31 dicembre 228 milioni e 600 euro diviso 12 mesi fanno fanno 180 il totale cioè dico il totale invece per un anno intero è 559 diviso 12 mesi vuol dire che ogni mese l'ATAC spende 186 milioni di euro virgola qualcosa tralasciamo le virgole ma allora io mi domando come mai solo per agosto da agosto a dicembre ne spendiamo la metà mentre invece la media del mese è molto inferiore io su questa roba è ovvio che non è una partita su cui noi possiamo dire qualcosa però sugli otto allegati da approvare qualche considerazione si poteva fare rispetto agli importi che vanno ad essere attualizzati ed approvati 2016 559 milioni di euro 2017 565 milioni di euro dal 1 agosto al 31 dicembre 228 milioni di euro qua c'è qualcosa che avremmo dovuto capire a che cosa si riferiscono questi investimenti quant'è la quota che la regione trasferisce e se la trasferisce soprattutto perché lo dico perché la carenza di quello che vediamo poi nelle strade dalla palina al trasporto ai mezzi cioè ovvio che dovevamo intervenire prima noi abbiamo come lo dovere di approvare entro il 18-9 questa questo malloppo questo librone che già di per sé come abbiamo visto in commissione diventa arduo però gli allegati almeno dico gli allegati dall'1 all'8 dovevamo vederli con più attenzione caro assessore non è un problema è un problema di tutti noi quindi lei è intervenuta in commissione noi abbiamo votato e naturalmente per l'urgenza e l'alto senso istituzionale che abbiamo sicuramente ci fidiamo di questi 228 milioni di euro da agosto a dicembre ma a se so una verifica e un impegno pure da parte del municipio a dare qualche indirizzo rispetto alle esigenze del territorio va dato di questo abbiamo parlato in commissione dell'era d'accordo anzi sono convinto che non abbiamo altra strada però negli atti che dobbiamo provare io lo ripeto bisogna guardarli da più punti di vista perché è sotto gli occhi di tutti quello che è stato il trasporto da agosto da luglio agosto qui su Roma e su tutta la capitale è sotto gli occhi di tutti quindi approvare questo contratto di servizio vuol dire varare queste somme che a parer mio risultano squilibrati nel periodo agosto dicembre e naturalmente non ho gli strumenti per valutare le altre somme per le altre annualità questo è quanto ma per l'altro senso come diceva lei in commissione della come dire dell'iter che devono seguire e naturalmente i cittadini ne subirebbero le conseguenze abbiamo visto che è dato deserto il bando per l'acquisto dei pull ma non si è presentata nessuna ditta quindi noi leggiamo sui giornali alcune cose e poi ci ritroviamo a vedere un librone così su cui i municipi devono dire approvare e per l'altro senso sicuramente civico che abbiamo tutti non ci vogliamo distogliere dall'impegno di approvare questa proposta e votare favorevolmente però la invito a partecipare in commissione e darci questi chiarimenti fondamentali e necessari per capire come il denaro pubblico viene speso grazie grazie consigliere Ciancio altri interventi consigliere Treticine prego allora buongiorno io volevo dire siamo ovviamente non parteciperemo al voto perché ovviamente passando una sola volta in commissione questo argomento che va trattato sicuramente non bene di più visto che abbiamo diversi problemi con il trasporto pubblico e pur volendo io almeno pur volendo studiare l'argomento non mi è stato possibile visto che non abbiamo potuto fare né fotocopie né portarci a casa la documentazione per fotocopiare e né c'è arrivato un file tramite mail solamente in commissione che nemmeno abbiamo letto quindi io sinceramente non so su quale argomento potremmo trattare la discussione oggi quindi non so nemmeno come fanno gli altri consiglieri a votare un argomento del genere grazie grazie a lei altro intervento consigliere matrono buongiorno a tutti allora quello che ha detto la consigliera tredicine mi sembra una cosa abbastanza giusta e trasparente perché assessore il faldone era grande molto oggi ho abbandonato l'aula la sera vista a 9 e mezza me ne sono andato dalla commissione perché fare una commissione un giorno due giorni prima del consiglio e decidere su una cosa del genere non dico che è una presa in giro ma a me sembra di votare a scatola chiusa scatola chiusa significa che possiamo votare qualsiasi cosa possiamo accorciare le linee allungarle abbassare il bilancio togliere la pensilina aggiungere la pallina possiamo fare di tutto non abbiamo letto nulla giustamente lei mi ha parlato di 110 milioni di chilometri mi ha parlato dell'opportunità dei cittadini di fare i reclami sistema automatico di rivelazione del servizio comitati di vigilanza un comitato di vigilanza per lo svolgimento del controllo svolgimento del servizio un comitato per la gestione del servizio a me sta roba non è che mi interessa a me mi interessa che il servizio funzioni funzioni bene e per farlo funzionare se noi dobbiamo esprimere un parere dobbiamo renderci conto di quello che votiamo la critica del consigliere Ciancio mi sembra abbastanza giusta perché è stata una critica perché ha detto almeno quello che ho potuto capire che il tutto andava puntualizzato molto meglio però dobbiamo andare avanti cioè dobbiamo votare a scatola chiusa cioè noi dobbiamo votare 500 pagine non sappiamo che c'è scritto dentro non sappiamo nulla però siccome ce lo dicono dall'alto non siamo in grado di dire no non siamo in grado di dare un parere sfavorevole perché purtroppo perché purtroppo la politica che voi parlate di politica questa è politica per me la politica è stare vicino ai cittadini per voi la politica non so come viene intesa per voi la politica basta che qualcosa passa perché qualcuno ce l'ha imposto perché dall'alto qualcuno si è svegliato e ci ha detto entro il 18 settembre bisogna esprimere il parere pertanto voi tutti in fila dite sì ma là dentro che c'è scritto Assessore? sono 300 pagine 300 pagine o sono tutte stronzate a questo punto se sono stronzate votiamo una stronzata facciamo una stronzata e votiamo lo posso dire? non lo posso dire? no ok scusi scusi presidente vabbè ma sta nel vocabolario comunque non è l'offesa non è l'offesa non è facile è una stronzata però vabbè allora dico come ha detto sempre ripeto il consigliere Ciancio che poi fa parte della vostra maggioranza per carità pertanto se viene da lui se la critica viene da quel pulpito è normale che da quest'altra parte c'è qualcuno che raccoglie le critiche e cerca di appesantirle l'assessore da scura ha detto di darci notizie importanti a quanto ammonta questo contratto ah 5 questo ha detto il consigliere Ciancio non l'ho detto io avremmo dovuto capire che tipo di investimenti non l'abbiamo capito non abbiamo visto l'urgenza la colpa di chi è di chi è la colpa mica la mia al comune mi piace il suo io mica so io quello che decido il comune ci ha mandato 300 pagine credo che siano 300 quanti sono l'assessore 250 250 250 pagine che voi avete letto perché siccome voi siete intelligenti giustamente senza offesa per nessuno però io ve lo dico che voi riuscite a leggere in due ore 250 pagine a criticarle a votarle a fare le obiezioni a fare tutto quanto perché devo dire perché siete forti siete bravi non è così assessore non si porta in commissione un regolamento con una seduta di due ore due ore quindici minuti si votano 250 pagine il contenuto di 250 pagine perché non ci abbiamo i soldi per fare fotocopie perché non ci abbiamo il tempo per fare fotocopie quando ci sono delle emergenze del genere e mi riferisco a questo regolamento che è una cosa importantissima mi dispiace ma lo stesso municipio doveva attivarsi e fa 25 fotocopie darle ai capigruppo i capigruppo avrebbero provveduto a darle ai consiglieri però qualcuno la fotocopia ce la doveva dare invece noi siamo abituati questo succede anche con i cimiteri con l'ATAC con qualsiasi contratto che viene qualsiasi contratto che viene noi ci troviamo in commissione che ci mettete sul piatto il bilancio stessa cosa che significa questo che mentre voi c'è qualcuno dal comune che vi dice no dovete votarlo perché è così 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 quindi anche se non siete convinti vi autoconvincete perché purtroppo purtroppo la vostra maggioranza del comune vi impone un certo comportamento riuscite a votare cosa che è successa ma credo che qualcuno si sia giocata la candidatura l'altra settimana che qualcuno ha votato contro a un parere della consigliera battaglia e credo che se sia un po' bruciata la situazione perché votare contro un consigliere contro un parere di un consigliere contro una un'espressione di un consigliere arrivare in aula e votare e votare contrario mentre oggi che nessuno ha letto quel regolamento tutti d'accordo perché è sceso in campo l'assessore Morgia perché giustamente l'assessore Morgia essendo vicepresidente ha parlato chiaro ci ha fatto dei segni ha detto 500 110 200 è normale ma il contenuto il contenuto di quella di quel brogliaccio perché lo possiamo chiamare pure brogliaccio perché io non ho letto vogliamo brogliaccio che c'è scritto se sono che c'è scritto a pagina 10 legga che c'è scritto a pagina 10 oppure a pagina 22 bisogna leggere questo vediamo quello che ci dicono se dentro c'è qualche cosa di particolare però la commissione lavori pubblici e gliel'abbiamo detto alla commissione lavori pubblici quante volte gliel'abbiamo detto perché quando ci sono cose importanti la commissione si deve riunire anche di pomeriggio anche di mattina più di una volta non deve venire alle 9 30 portarci il suo faldone e dice qua si vota così perché ci ha detto l'assessore perché è venuto l'assessore l'assessore non si fa così se lei mi dice sempre io mi insegno a fare politica questa non è politica questa è violenza è una violenza che anche i stessi consiglieri del PD subiscono oltre a noi che non stiamo fuori da tutti i giochi pure dai funerali però siete voi siete voi che vi violentate e vi auto violentate perché accettate accettate e guarda questo è lo stesso termine che stai con l'aga mi stai in questo consiglio dissi mi state violentando quando avete fatto passare l'aga ve lo ricordate io fui l'unico che si è battuto dicendo che era un soppruso era un illecito era una maschialzonata era passibile di denuncia però voi tutti compatti perché un assessore un assessore venne in commissione e vi aveva dato l'input torniamo all'argomento avete votato e riguarda anche questo l'aga perché lì lì parla adac io voglio sapere se dentro quel regolamento c'è scritto che quei posti della manina possono essere riservati anche per l'atac di sopra ci potrebbe essere scritto però nessuno l'ha letto nessuno ha detto niente e adesso stiamo rifacendo lo stesso errore stiamo votando tranquillamente un regolamento ma non sappiamo che cosa c'è scritto dentro questo è quello che ha detto Ciancio Ciancio io non mi sbaglio credo di aver capito bene credo che hai criticato quel regolamento perché la frase tua che mi ha colpito puntualizzare meglio ma dobbiamo andare avanti questo è quello che è stato detto no non volevi spiegare per cortesia per cortesia non facciamo il dibattito a due no non è il dibattito a due è una risposta all'intervento qualsiasi vado avanti all'attivo assessore visto che visto che oggi è 15 mancano tre giorni per il parere domani si potrà riconoscere nuovamente la commissione riguardare un'altra un'altra volta il parere il 18 andavamo al consiglio il 18 esprimiamo un parere perché non si può fare questo perché bisogna correre come lo spiega assessore c'è qualche problema c'è qualcuno che ha detto entro domani va approvato il regolamento no no assessore lei non dirige i lavori dell'aula però lei assessore dirige i lavori della commissione lavori pubblici dove è un eccellente assessore e allora e allora signori miei allora signori miei che cosa dobbiamo fare dobbiamo votare c'è un minuto consiglio grazie grazie è molto vigile attento quando parlo io la ringrazio la ringrazio molto al residente e allora assessore io una proposta la farei ma pure per andare incontro a questi signori perché io so sicuro che nessuno di questi consiglieri come nessuno di questi consiglieri a quest'altra parte eccellente opposizione quando gli pare quando riusciamo a fare opposizione no non ha letto nessuno questo regolamento nessuno neanche voi cioè voi state votando 250 pagine una scatola chiusa se lì c'è scritto che ce levano il servizio a via Tuscolana se ce levano il servizio a la nina voi state votando un nuovo regolamento o me sbaglio se so può darsi pure che dico una cretinata eh no la dico io io signor anche portesia su per favore c'ho 30 secondi allora dico ragioniamo un attimo no se vogliamo fare politica visto che qua si parla sempre noi facciamo politica noi facciamo politica ma la politica non significa rispettare l'input che viene dall'alto la politica significa delle volte avere il coraggio e andare contro quella politica che è stata condannata quella politica che ha sbagliato che ci ha portato allo sfascio totale di tutte le istituzioni e dire signori miei i tempi sono cambiati ok voi ci imponete di fare un regolamento ci imponete di votarlo noi noi vogliamo vederci chiaro ci prendiamo due giorni tre giorni non vi sta bene e non si vota il regolamento ma che casca la testa di qualche consigliere o di qualche assessore ma che vi richiama il vostro commissario che va a commissariato e vi saranno pure a commissare un'altra cosa grazie questo che dico quindi ci vuole il tempo il tempo chi ha tempo non aspetti tempo ma noi ce l'abbiamo ancora abbiamo due giorni la commissione si può riunire per altri due giorni lo stesso il 18 quando è il 18 dopo domani giovedì martedì prossimo martedì prossimo anche la mattina si può riunire e arriviamo con il parere con l'espressione del parere poi gli uffici non ce la fanno fanno i straordinari ci stanno i straordinari fanno i straordinari grazie conservatori e lavorano senza i straordinari fanno a recupero grazie però deve finire pure questa storia grazie la storia che gli uffici non ce la fanno grazie gli uffici sono i doni c'hanno il personale c'ha la donna grazie consigliere Giuliano prego consigliere Giuliano grazie inizierei con una con una battuta perché sembra calzante no? che ci possano prendere in giro altri soggetti questo non lo possiamo evitare ma che ci prendiamo un giro da soli questo diventa un po' grave perché dico questo? perché ovviamente siamo una parte del meccanismo alla quale non viene dato la valenza di poter interpretare affrontare confrontare e proporre quindi siamo una parte di un meccanismo che deve comunque in sequenza approvare qualcosa dove poi il proprio parere non è vincolante e questa è la parte ancora più simpatica approvare qualcosa perché è un sistema che lo permette quindi i famosi 30 giorni che derivano dall'articolo di riferimento del Tuel che ci permette di poter dare il nostro piccolo contributo ma noi lo vorremmo dare il nostro piccolo contributo nel momento in cui siamo messi in condizioni di poterlo fare e da lì appunto la frase che se ci prendono in giro dal centro pure pure ma se noi siamo quelli che ci prendiamo in giro da soli diventa pesante quindi io non voglio entrare nel merito della relazione dell'assessore che ovviamente ha fatto la sua parte non c'entra niente in questo caso l'assessore che comunque prova a spiegare un qualcosa sulla quale poi serve un tempo necessario ma il risultato di questo è la considerazione che ci arriva da altre parti e che ci mette in evidenza il fatto che noi siamo uno strumento passivo siamo uno strumento senza una gamba siamo non lo so trovate voi l'aggettivo o gli aggettivi più idonei perché ne possiamo mettere tanti ed è questo poi quello che arriva quindi al di là di una spiegazione anche opportuna che l'assessore della giunta quindi di competenza ha fatto anche in commissione l'ha ripetuta qui però non è quello il problema il problema è capire la volontà politica di un'amministrazione di cui facciamo parte che non funziona non funziona più non si può considerare una parte istituzionale l'ultima ruota del carro non si può tramite la scusa della mancanza di fondi non avere gli strumenti perché ripeto l'ho detto prima in riferimento al passaggio A ma questa è la stessa identica cosa ma fu eclatante il discorso del bilancio non si può vedere dal bilancio senza avere lo strumento di uno studio o di un cartaceo o di un lavoro che possa mettere in evidenza perché qui non è che tutti fanno i tuttologi quindi c'è bisogno di poter comunque capire e studiare però pure lì il risultato è stato quello che sembra che siamo condizionati come strumento di periferia come istituzione di periferia a dover votare qualcosa che ci arriva dal centro e se parliamo di decentramento che non c'è perlomeno cerchiamo di attuarlo nella forma cerchiamo di rendere quest'aula capace di dare contributi critici o anche positivi però di darli allora anche chi fa questo lavoro perché siamo su due componenti diverse la parte amministrativa e la parte politica ma non c'è soddisfazione se effettivamente poi è mozzo il percorso non c'è comunque una logicità non c'è comunque un un sentimento di poter fare questo ruolo cioè una positività di poter entrare e dare il proprio contributo quindi io non penso che sia una questione di posizionamento penso che sia comunque al di là di dove uno si trova si sente effettivamente meno mato del fatto che non può essere parte in causa questo non accade ovviamente con i consigli comunali che si fanno ben rispettare dalla parte comunque istituzione che comunque pretendono ottengono perché hanno loro secondo loro un'altra responsabilità noi non abbiamo responsabilità noi siamo di passaggio per cui arriva qui questo papier non sappiamo quello dentro che c'è ripeto è facile dire che adesso la reazione non era insufficiente ma lo sarebbe stato chiunque fosse a posto dell'assessore perché quello è cioè il tempo che ha avuto e la possibilità di poter essere interpellato e dare il contributo non c'è stato quindi io non capisco se questa mancanza di conoscenza sia voluta perché più cose più notizie si danno e più uno ha la capacità di poter capire e allora meno arriva e più confusione c'è ma non vale solo per l'Atac che è un carrozzone io vorrei anche capire se questo contratto dell'Atac se la direzione in cui l'Atac non lo possiamo dire assessore ma non per l'edico ma non possiamo mettere il becco nell'amministrazione comunale e dire ma qual è la progettualità siamo in house di non tra i privati che dobbiamo fare ma questo è un concetto che a noi non ci appartiene perché siamo ok all'atere del meccanismo per cui noi non possiamo esprimere questi concetti non ci possiamo preoccupare di questo risultato di quale sarà il destino perché poi le confusioni arrivano articoli dove dice no beh si farà un contratto in house per salvare il carrozzone oppure no ma stiamo aspettando no questa consigliatura l'aggiunta il sindaco sta facendo alterare equilibri di questa azienda per poi dire no è giusto pure che entrano i privati qual è il fine io non l'ho capito ma a questo punto anche lo voglio capire perché se devo comunque dare il contributo devo essere messo in condizioni di poterlo dare e allora questo è già un passaggio che a noi basterebbe capire qual è il fine però va bene non ci è dovuto quindi una conoscenza non voluta questo è il risultato che me ne deriva e me ne convinco di questo che poi arriva anche sugli investimenti e allora quando si parla della parola investimenti sembra chissà che cosa debbano trattare poi se entriamo anche nel merito a noi farebbe piacere sapere se appunto le pensiline il programma delle pensiline dove mancano e dove la gente comunque aspetta la fermata dell'autobus possano essere completate perché partirono qualche anno fa però l'assessore ci ha detto in commissione che è stato fatto 2, 5, 10, 20 non so quante hanno messe su 1,5 insomma si sono fermati subito quindi uno specchietto va all'odole non si sa appunto il discorso anche sull'investimento dei mezzi perché poi sentiamo che ci sono delle gare c'è un minuto cercherò di rientrare nel minuto compran i mezzi però poi sentiamo spesso vediamo che ci sono degli autobus che si fermano perché sono vetusti perché non hanno la manutenzione perché non c'è la volontà di sistemare questo carrozzone perché abbiamo dato non noi ovviamente ma lo dobbiamo dire ad alta voce abbiamo esternalizzato numerose funzioni al fine di migliorare invece abbiamo peggiorato per dare risposta all'esterno ma la struttura 15 anni fa 20 anni fa aveva al suo interno fior fiori di meccanismi che non sono stati più utilizzati come la manutenzione la diamo all'esterno e non sappiamo anche il fatto sulla evasione cioè abbiamo saputo dai giornali che Atac ha permesso o chi per lei un miliardo non lo so quanto era lì una cosa cioè mi vergogno pure a dirlo di biglietti falsi una cosa che funziona da 20 anni e nessuno ha battuto ciglio se non qualche commento fino da lì perché ovviamente è una cosa secondo me complessiva ma poi non abbiamo non si percepisce la volontà di evitare un'evasione derivante non solo ovviamente su Atac e mezzi pubblici ma anche su Ametro cioè quindi adesso è tutto unificato e non c'è una volontà non si evince una volontà di questo tipo si parlava ad esempio facciamo su tutti di mettere di nuovo i viettai sui mezzi su alcune linee per evitare questo ma poi rimane carta straccia allora in funzione di questo in funzione del fatto che non siamo messi in condizione in funzione del fatto che io personalmente mi sono stufato e non so quanti altri consiglieri di lavorare in questo modo ma se è vero che al centro del nostro parere non gliene può fregare di meno la cosa è reciproca a noi non ce ne può fregare di meno di dare un parere su questo grazie consigliera Lozzi prego mi devo associare ai consiglieri che hanno parlato prima di me sul fatto che non abbiamo avuto la possibilità di studiare minimamente questo contratto di servizi che ci è stato proposto ed è alquanto assurdo visto che stiamo parlando di un servizio che tanti problemi crea a Roma e poi siamo noi che dobbiamo sentirci le lamentelle dei cittadini e non sappiamo rispondere io sinceramente assumermi la responsabilità di dare un parere favorevole quando poi dopo sarei responsabile del disservizio non me la sento tra l'altro a quanto pare questo questo contratto di servizi per motivi di urgenza è già stato approvato con delibera di giunta ad agosto quindi immagino le nostre osservazioni o il nostro parere quanta influenza possa avere per il nostro comune dice che ascolteranno le nostre osservazioni non le ascoltano neanche quando siamo nei termini figurati quando già hanno dato il via e lo hanno approvato con delibera di giunta inoltre abbiamo il nostro assessore il nuovo assessore esposito che non si presenta neanche in consiglio comunale quando ci sta una delibera sulla ripatrimonializzazione ATAC quando si mette a parlare con i salvaciclisti per quanto riguarda la possibilità di una mobilità sostenibile di Roma smonta qualsiasi programma o progetto creato con l'amministrazione fino ad oggi dicendo finché non ho dei servizi pubblici all'altezza io non mi occupo di ciclabilità di che cosa stiamo parlando di che cosa vogliamo parlare fino a due giorni fa in metropolitana passavano le metro ogni dieci minuti ogni quarto d'ora per uno sciopero bianco degli addetti al trasporto proprio perché cercavano di testimoniare il loro disagio nel lavorare in un'azienda che non funziona e noi poi ci presentano il nuovo contratto di servizi bello impacchettato senza darci risposta su nulla senza darci risposte sul perché c'è disagio dei lavoratori sul perché nulla funziona e noi dovremmo votare a pacchetto chiuso senza poter analizzare niente sulla fiducia sulla fiducia tra l'altro di un nuovo assessore che nessuno di noi neanche conosce quindi non sappiamo neanche quali sono le sue idee o meglio le intuiamo da come lavorava e come continua a lavorare a livello nazionale e questo ci spaventa ancora di più quindi se è stata approvata con delibera di giunta ad agosto per motivi d'urgenza ho ancora più terrore nel dare il parere favorevole la cosa che forse avrei auspicato è che con un minimo di dignità come continuo a ripetere oramai da un po' di tempo nostra ci fossimo opposti oppure avremmo potuto semplicemente dire non esprimiamo parere perché non c'è stato il tempo perché se il nostro parere è semplicemente una mera procedura regolamentare noi non ci stiamo perché noi non andiamo a chiedere i voti ai cittadini promettendo che li rappresenteremo in tutto e per tutto se poi dopo non abbiamo dignità politica di poterlo fare prima abbiamo parlato decentramento ancora non c'è il decentramento dovremmo fare sono due anni che stiamo qua abbiamo anche una commissione che si potrebbe occupare di decentramento e noi non abbiamo prodotto un atto che è uno per chiedere questo decentramento per chiedere più potere per poter soddisfare l'esigente dei cittadini e poi dopo perché il regolamento ce lo impone vogliamo esprimere un parere favorevole su 250 pagine che non abbiamo letto noi su questo non ci stiamo altro intervento consigliere stevità sì grazie presidente allora io non volevo intervenire però mi sono stato sollecitato sempre dal mio amico nemico politico naturalmente io di amici non ne ho e tantomeno amici politici detto questo che voglio dire fino a ieri c'era Aurigemma fino a ieri c'era Marchi ma è che adesso qualcuno e con questo non voglio difendere non c'è il direttore perché dobbiamo prendere presidente e colleghi consiglieri l'abitudine che gli argomenti vanno lavati e stirati prima che arrivano in commissione non ce ne frega niente di quello che spendiamo i soldi spesi per la politica sono sempre spesi pochi tintoria e cortesia lei poi non la paga il consigliere cambia giacca ogni giorno come gli accidenti fa io non lo so io uso questa per una settimana ma la consigliere sta facendo un intervento o una giacchierata no io sto facendo allora prego presidente se lei dica consigliere giurale non interrerebbe abbandonare l'aula se mi interrompe perciò vado al percorso che volevo dire ho chiamato prima una collega consigliera di un altro municipio e mi ha detto che in commissione c'è l'agenzia di mobilità ci sono gli uffici noi l'altro giorno abbiamo avuto una commissione con tutto l'impegno che ci mette il consigliere Cofano e devo dire che ultimamente io sto cercando di collaborare mettendo aiutando a prescindere per la sua generazione perché se questa generazione noi che siamo un po' matusalemme di esperienza politica facciamo danni allora no io vorrei aiutare il mio amico Cofano certo lui dice mazza pensa se non mi aiutavi lo capisco che lo pensa perché ormai lo conosco da qualche annetto perciò al primo municipio ad altri municipi c'è stata l'agenzia della mobilità e noi abbiamo avuto l'assessore che ci ha spiegato che secondo me neanche lui l'ha capito perché non si possono leggere tutte queste pagine in cinque minuti in un'ora in due giorni io non ci riesco e vabbè io sono limitato un po' attacco di dislessia acuta però rimane il fatto che se noi non prendiamo l'abitudine di pretendere ma neanche gli uffici sono avuti ecco è tornato il direttore noi dobbiamo avere in aula la cartellina con tutti gli atti con l'ordine del giorno con le comunicazioni col primo punto col secondo punto e io capisco ma noi gli uffici non ce la fanno si organizzano si devono organizzare in commissione il lavoro ha ragione il consigliere Giuliani e mi dispiace dargli ragione le commissioni devono essere fatte di più per cercare e invitare gli uffici come ripeto al primo municipio altri municipi è presente l'agenzia della mobilità gli uffici tecnici e i dirigenti dell'ATAC allora ma perché noi siamo ci hanno portato e il consigliere ci ha portato questa cosa che l'ho vista di sfuggita e sarebbe avremmo avuto la possibilità di dire per rispetto alle donne per esempio mi stava dicendo questa brava consigliera che loro hanno messo che le donne a una certa ora della serata non pagano capisco tutto non è che cambia cambia niente cambia prego no no perché non mi permetterei mai visto 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 e vi ripeto quello che mi ha detto la consigliere che mi sono è un genio sì vabbè però rimane il fatto che secondo me avremmo avuto il tempo di ragionare e perciò io questo carrozzone l'abbiamo ereditato da Augemma dalle Manno o dalle Danno e da bravo Marchi che poi fondamentalmente è un bravo Cristo e perciò io ritengo che non è questo il metodo di lavoro che noi dobbiamo avere perché poi non ci possiamo lamentare se i cittadini ci insultano e a me non mi insultano non è che questo perciò questo argomento va allora a questo punto faccio come ha detto il consigliere Coglia rinviamo questo a un altro momento abbiamo con tutto il tempo abbiamo allora non è possibile continuare in questo modo di mancanza di rispetto a coloro che siedono in quest'aula e anche coloro che stanno in giunta grazie allora non ci sono altri consigliere Cofano grazie presidente le perplessità che sono emerse sul metodo io come presidente commissione le raccolgo ma le raccolgo come un modello che comunque ha caratterizzato e caratterizza i municipi nella pausa estiva nel senso che purtroppo questo non è l'unico atto che ci siamo trovati a votare in sordina lo possiamo dire tranquillamente nell'ultima settimana di agosto sono arrivati diversi atti è il secondo che già oggi votiamo in aula e per ovvie ragioni di tempo le commissioni che si sono svolte si sono svolte in tempi chiaramente snelli oltretutto arrivata comunque la documentazione io avevo chiamato l'agenzia della mobilità e mi era stato detto direttamente che comunque il delegato non sarebbe non avrebbe potuto partecipare nella sessione di venerdì scorso pertanto di fatto già questo ha caratterizzato comunque i lavori della commissione per cui io penso che il modello da contestare sia quello che comunque ad agosto arrivino le cose in sordina e a settembre dobbiamo poi rincorrerle e questo io lo raccolgo ma lo metto alla discussione del consiglio come un modello che secondo me va un attimino superato di tutte le commissioni sul merito del tema c'era stato un ragionamento che aveva detto il consigliere prima però il passaggio sulla questione della sosta tariffata che potevamo ragionarla anche in questa in queste linee guida che poi costituiranno il contratto di servizi in realtà c'era perché a pagina 175 nella commissione ne avevamo parlato c'è il paragrafo sulla sosta di scambio in cui veniva individuato che il parcheggio di Anagnina è possibile essere a sosta gratuita e chiaramente questo è un elemento che abbiamo inserito anche nella ben nota delibera AGA che sarà attenzionata successivamente dal direttore per cui dei passaggi sono stati fatti però permettetemi tutti che comunque arrivare oggi in aula contestare tutto questo apparato però poi in commissione quest'atto è passato è passata a maggioranza per cui di fatto la commissione l'ha votata venire oggi e dire che rimandiamola in commissione rivotiamola ridiscutiamola non lo so però non lo trovo proprio un ragionamento in linea con quello che poi è stato il processo per cui e lo dico anche mi svesto dai panni del presidente della commissione ma della forza parlo a nome anche della forza politica che rappresento io non ho nemmeno un vincolo a votare a favore per forza di quello che emerge oggi dall'assessorata ai trasporti in quanto il mio gruppo comunque si trova in una posizione di appoggio esterno per cui se lo faccio è perché comunque ho ravvisato degli elementi di positività rispetto ad alcuni passi che erano stati mossi io penso che il resoconto semestrale che i municipi faranno con Adac sia un passaggio importante sia un passaggio importante che comunque possa portare un attimino anche di raccordo tra le esigenze nostre e quelle dell'Adac per cui se la commissione ha dato parere favorevole evidentemente penso che oggi l'aula si esprimerà nello stesso modo grazie grazie allora ci sono altri interventi passiamo a dichiarazione di voto ci sono dichiarazioni di voto ci sono dichiarazioni di voto consigliere cofano è passata a maggioranza di chi io non c'ero tredicine non c'era la notte c'era e ha votato contro la notte ha votato contro Giuliano ha votato contro Coglia non c'era a maggioranza di chi ah non vale il voto il conto umano quindi io mi auguro che il consigliere che ci ha preceduto prima che si è battuto dicendo che l'atto va riguardato e va attenzionato credo che a questo punto non so come si comporta perché se mi dice se mi dice dopo quel dibattito che ha fatto che mi vota a favore beh io comincio a avere dei dubbi dei dubbi sulla serietà politica che c'è all'interno di questo municipio perché perché il consigliere che mi ha preceduto non dico il nome perché sennò sembra che sia brutto però ha pochi intenditori poche parole perché perché fare un attacco del genere dicendo che al municipio primo c'è stata l'agenzia della mobilità al municipio c'è stata l'agenzia mobilità che le donne non pagano che cosa che noi non abbiamo visionato abbondantemente e attentamente questo regolamento e poi andiamo a votare e votiamo a favorevole e beh signori miei o sono scemo o qua siamo tutti scemi perché c'è qualcosa che non va perché a suo punto a suo punto non si può partecipare al voto dicendo che non è stato visionato accuratamente questo regolamento e poi votiamo a favore e allora io il messaggio l'ho mandato chiaro rinviamo la discussione a domani a dopo domani prima del 18 lo stesso 18 a mattina si può fare tranquillamente e si approfondisce tutto quanto il regolamento invece dicendo così sto parlando sto facendo la dichiarazione di voto presidente non è la dichiarazione di guerra una volta che sto tranquillo una volta che sto tranquillo allora io dico io non ce l'ho con l'assessore Morgia che si è rampicato sugli specchi per far capire perché però anche lui credo che non abbia capito tutto perché non ha letto tutte le 250 pagine ha capito notizie che guarda è là qualcosa ha letto qualcosa gli ha detto l'agenzia della mobilità qualcosa l'assessore ha fatto tutto sto rimasuto tutto sto riassunto e ci ha portato qui con quattro parole ho detto e abbiamo risolto il problema il consigliere Gofano il consigliere Gofano giustamente ha detto che in commissione va votato contro va va espresso il proprio voto il proprio parere ma consigliere Gofano ma come si fa a votare quest'atto cioè è durata 2 ore e 15 minuti la commissione 250 pagine non c'è il tempo manco in 2 ore e 15 minuti non c'è il tempo manco di leggere la prima pagina di controbatterla e di criticarla oppure di approfondirla non ci abbiamo avuto quel tempo e poi mi dici io mi auguro che la oggi mandi il messaggio a tutti questi questi bravi ragazzi che secondo me mi auguro che ci abbiano un po' di serietà politica che gli dice conservatondola il tempo è scritto 3 minuti per fare dichiarazione di punto 3 minuti sono 30 secondi siamo al quarto al quarto punto quarto minuto prego per favore faccia dichiarazione di punto manda manda il messaggio a tutti quanti dicendo credo che oggi l'aula si esprima positivamente non è così forza Italia forza Italia che in quest'aula sta dimostrando la serietà non può partecipare al voto perché votare anche fa astenersi significa votare a favore significa venire a favore di quello che avete detto che non è vero abbiamo capito grazie per tanto noi giustamente abbandoniamo anche se consigliere Giuliano prego sarò velocissimo presidente mi guardi il suo velocissimo un sussulto di dignità politica in mezzo a questa confusione e a questa non conoscenza voluta un sussulto di dignità politica nel non dare il parere fratelli d'Italia non darà il suo parere grazie altre dichiarazioni di voto consigliere la dottore allora neanch'io parteciperò al voto per una cosa che mi ha colpito quando è venuto l'assessore in commissione quando ha detto in effetti questo contratto che noi stiamo approvando diamo il parere è già in essere quindi personalmente non mi sento di votare una cosa che già viene attuata grazie grazie consigliere Stavitano per il PD sì grazie presidente colleghi consiglieri allora nessun sussulto nessuna cosa se io penso ai cinque anni che abbiamo vissuto questo municipio periferico con i bilanci di Alemanno è una per cortesia per cortesia consigliere Stavitano scusate consigliere Stavitano faccia la dichiarazione di voto per cortesia consigliere Giuliano per cortesia per cortesia non è possibile mi dispiace non è possibile grazie consigliere Giuliano consigliere la faccia la dichiarazione di voto per cortesia devo essere messo in condizione per fare dichiarazione non è possibile che io mi faccio sovraidecare di quello che dice il tuo intervento prego consiglieri se la sua è la possibilità di quello che dice e che fa prego non so se il consigliere Matronola di Forza Italia aveva bisogno di portarla nella commissione di sicurezza una cosa dell'Ama manca solamente che richieda di portarla nella sua commissione io posso criticare il metodo ma la responsabilità politica del Partito Democratico voterà favorevole grazie grazie scusate scusate per cortesia no consigliere Giuliano no non è possibile consigliere Giuliano non è possibile grazie no non l'accetto consigliere Danozzi prego allora il Movimento 5 Stelle pur rimanendo in aula non partecipa al voto perché non si può votare una cosa che non si conosce soprattutto così importante è vero che sono passati tanti atti d'urgenza ad agosto ma erano in corso di Iter nulla era già esecutivo e nulla avrebbe influito così come può influire un contratto di CICIAC sulla vita dei cittadini grazie altre dichiarazioni di voto non ci sono passiamo alla votazione allora chi è favorevole scusate per cortesia stiamo stiamo votando per cortesia scusate per cortesia allora per favore aiutiamo la segretaria per cortesia siamo a con silenzio grazie non è possibile scusate mentre si vota per favore siamo a un proprio posto grazie allora chi è contrario chi è contrario chi si astiene 13 voti a favore quindi l'atto è approvato grazie consiglio è chiuso grazie